Perché la mia natura era la natura di un autore libertario, amava la libertà perché ero nato nella libertà. Una trasmissione dedicata al grande maestro bolognese del realismo espressionista e alle sue relazioni strette con tanti artisti del Novecento. Oltre 30 opere inedite di Borgonzoni e una straordinaria selezione di lavori. Domenica 11 febbraio ore 10, canale 123 del Digitale Terrestre è in streaming sul nostro sito. Amiche buongiorno, amici buongiorno, bentrovati, benvenuti ad Arte Network e buona domenica. Buona domenica 11 febbraio, ci siamo, lo abbiamo largamente annunciato. Oggi è il giorno, questa è la diretta dello speciale che dedichiamo al maestro Aldo Borgonzoni. Io ho qui il catalogo generale, alle man di editori, edito ormai da svariati anni, è un prezioso volume a cura di Claudio Spadoni, ma permettetemi, quest'oggi devo un sentito particolare e speciale ringraziamento all'architetto Gian Battista Borgonzoni che è il presidente del Centro Studi Archivio Aldo Borgonzoni e alla dottoressa Daniela Bellotti che tra l'altro ha collaborato alla compilazione di questo straordinario catalogo generale dell'opera del maestro senza l'aiuto dei quali tutto quello che vedrete quest'oggi in questa nostra lunga diretta televisiva che durerà sino alle ore 13 e forse oltre non sarebbe stato possibile. Grazie alla loro collaborazione che con un lavoro durato mesi siamo riusciti a giungere al compimento di questo che per quanto ci riguarda noi tutti qui, ora non saluto quanti mi accompagnano ma voi li conoscete, i nostri cameraman, le nostre responsabili del centralino, il nostro regista, ecco a lui sì davvero va un ringraziamento speciale a Marcello D'Aidone anche per l'impegno profuso nella preparazione in collaborazione con l'archivio Centro Studi Aldo Borgonzoni di un film documentario che sarà parte centrale attiva di questa nostra trasmissione e ovviamente a Stefano Orler, il nostro responsabile che è stato il deus ex machina di tutto questo progetto. A loro un sincero grazie da parte mia, da parte di tutti, state con noi perché la trasmissione che vedremo quest'oggi, che vedrete quest'oggi col piacere di condurre ha i tratti dell'eccezionalità. In questo spazio, nello spazio vasto, ampio di spazio eventi, lo spazio dove abbiamo organizzato le più grandi mostre, dove abbiamo dato il là alle presentazioni televisive in diretta sui canali nazionali, là dove ci state seguendo quelle più seguite di maggiore successo. Oggi abbiamo allestito lo speciale Aldo Borgonzoni con un numero consistente di opere storiche. Attenzione, abbiamo opere dalla Viennale di Venezia, opere premiate, opere dagli anni 40, 50, 60, fino all'ultima parte della produzione del maestro e poi forse qualcosa intravedete già i più attenti tra voi in questa prima inquadratura. Non voglio mostrarvi troppo perché tra poco, quando con le telecamere andremo ad individuare le singole opere, scoprirete un'alternanza tra i capolavori di Aldo Borgonzoni e le opere dei maestri del Novecento con cui questo artista ha avuto strette relazioni. Si parla di Giorgio Morandi, di Virgilio Guidi, di Renato Guttuso, di Augusto Murer e di un consistente numero di altri grandi del Novecento, pari rispetto ad Aldo Borgonzoni. Dunque, io direi, se siamo tutti d'accordo, centralino già aperto per i vostri contatti, le telecamere sono pronte qui negli studi, abbiamo ampi spazi in cui ci muoveremo, sarà una trasmissione impegnativa, ma è per questo che siamo qui con voi, sperando nel vostro seguito. State con noi, chiedo immediatamente alla regia di mettere in onda almeno la prima parte di questo film documentario che riguarda la figura e l'opera di Aldo Borgonzoni. Seguiamolo insieme, è una coproduzione Arte Network Orler e Archivio Centro Studi Aldo Borgonzoni. Buona visione, vi aspetto in diretta fra pochissimo, sempre su Arte Network. Arte Network Orler e Archivio Centro Studi Aldo Borgonzoni. Medicina. Antica terra bruna. Antica terra sudata da antichi agenti. Dalle mani rudi come radici. Aldo Borgonzoni nacque nel 1913 a Medicina, un piccolo comune nel Bolognese. figlio di un bracciante e di una venditrice di stracci, visse l'infanzia in povertà. Per me è un gioco, il primo gioco che ho trovato importante nella mia vita, sono stati i sassi. Allora i sassi bagnati luccicavano e diventavano delle immagini, perché le segnevano non quelle liste, ma quelle che mi facevano pensare a dei draghi, a degli animali. Nel 1930 si trasferì a Bologna, seguendo il sogno di diventare pittore. Qui lavorò come cesellatore nella bottega di un argentiere e nel 1935 si diplomò alla scuola d'arte. Io volevo iscrivervi all'Accademia, all'Accademia ci volevano dei soldi fare. Allora cerco a Bologna, quando arrivo del 30, di andare presso un qualche pittore. I pittori mi dicono, ma no, ma tu non sai mica fargli i 600, i 700, ma imparerò. No, dice, noi li vogliamo già formati, devi fare l'istituto d'arte. Allora l'istituto d'arte non hai soldi per farlo di giorno, li faccio di sera. Vado da Stefani, Stefani mi fa fare la prova del disegno, mi sta bene, fra sei mesi ti pago. E divento un grande orofe cesellatore. Ma è la bottega giusta, perché le accademie hanno una storia che nascono dalle botteghe. Nel 1938 compì un viaggio in Germania, per studiare la pittura espressionista, allora ostacolata dal regime nazista, in quanto considerata arte degenerata. Nel 1940 dipinse un autoritratto di pungente intuizione psicologica. La pennellata, mossa e concitata, prelude alle future esperienze di marca espressionista. Nei confronti della cultura cominciavo a nutrirmi anche dei linguaggi e dei testi dell'arte che nasce fuori dall'Italia, ma che pur sempre è all'Italia e Europa. Là c'era una pittura più viva, perché la cultura di quel paese era meno legata alle convenzioni del potere della Chiesa. E allora i pittori dell'espressionismo tedesco, che ho visto in particolare nelle riviste, mi davano una grande incitazione. Volevo dare a questo sangue, sangue della mia pittura, un'energia che cercavo di esprimerla. L'energia di una pittura che doveva essere in qualche modo, nuova nel senso della tradizione iconografica che conoscevo fino a loro. La mia natura era la natura di un dittore libertario, amavo la libertà perché ero nato nella libertà. Nel 1942 partecipò al Premio Bergamo e conobbe gli artisti antinovecentisti Bruno Cassinari, Ennio Morlotti e Renato Guttuso, riuniti intorno alla rivista Corrente. Fu un incontro importante perché entrò in relazione con una realtà più aperta alla pittura europea. Entrò anche in amicizia con maestri lontani stilisticamente, come lo scultore accademico d'Italia Domenico Rambelli. I rapporti fra Aldo Borgonzoni e la società bolognese e la cultura italiana in quegli anni sono particolarmente interessanti. Il giovane Borgonzoni, come tanti altri artisti bolognesi, nel momento in cui arriva all'Accademia come docente Virgilio Guidi, ne resta affascinato, al punto che nel 1942, pur essendo quasi indigente, incarica Virgilio Guidi di fare il ritratto della giovane consorte di Alfonsina, mia madre. E poi la situazione a Bologna, come in gran parte d'Italia, si fa drammatica per via dei bombardamenti. Virgilio Guidi e Aldo Borgonzoni si rifugiano a medicina. Virgilio Guidi non era da solo, era con la sua modella e con il marito della modella. Il fatto che Guidi a medicina, frequentando le osterie, continuasse a dire ma noi abbiamo le armi segrete, vinceremo comunque la guerra, perché la guerra stava già andando parecchio male per praticamente le forze dell'asse. Questo mise in crisi Aldo Borgonzoni, perché Aldo Borgonzoni già era praticamente un uomo della resistenza e il migliore amico medicinese di Aldo Borgonzoni, si chiamava Argentesi e nel dopoguerra diventerà sindaco di quel paese, convocando Borgonzoni disse guarda abbiamo deciso come cellula partigiana che Virgilio Guidi, per rispetto tuo, non lo faremo fuori, ma deve andare via entro tre giorni. Ebbene Aldo Borgonzoni insegna questi tre ad andare a biciclettare e Guidi si stabilisce a Venezia di nuovo all'Accademia di Belle Arti di Venezia dove era comunque in contrasto con gli altri docenti perché era un uomo di carattere un po' particolare. Domenico Rambelli Aldo Borgonzoni l'aveva conosciuto nel 1938 o 39. Rambelli si rifugia a Bologna e continua il dialogo con i giovani Borgonzoni e tale il loro dialogo che Rambelli fa il ritratto di Aldo Borgonzoni in Terracotta ebbene Rambelli dice a Borgonzoni ma Bologna mi sembra ormai una città pacificata perché non andiamo a fare due passi fino alle due torri Aldo Borgonzoni accetta insieme arrivano quasi due torri quando come nei film francesi non era una Citroën ma era una piccola topolino praticamente nera scendono tre partigiani circondano Rambelli e Borgonzoni Rambelli è in piedi contro il muro e poi nel momento in cui parlano i partigiani sacascia per terra e i partigiani semplicemente dichiarano a Rambelli che lui doveva essere portato a Faenza al tribunale del popolo ma il suo destino era già segnato mentre Borgonzoni convince i tre partigiani dal momento che non avevano un mandato scritto e dal momento che Borgonzoni da comunista li invita in vano ad andare a derimere la questione presso la federazione del PC di Bologna di via Barberia i partigiani si convincono ripromettendosi di venire il giorno dopo a Bologna a riprenderlo con un mandato scritto ebbene nella notte stessa Rambelli parte in auto e si rifugia per molti mesi dentro al Vaticano questi eventi che la dicono lunga su un fatto di fondo ossia come gli artisti eminenti e non eminenti italiani guardassero la tragedia della guerra con occhi diversi perché in definitiva quello che contava era salvare la dignità dell'uomo la sua produzione pittorica in questo periodo documenta gli orrori della guerra il ciclo sull'eccidio di Marzabotto solcato da riverberi tragici e dall'alto esempio di una pittura espressionista impresa diretta con la storia nel dopoguerra le sue opere saranno inserite nel Ghetto Fighters House fondazione israeliana dedicata alla lotta al nazismo nel 1944 a Bologna e nel Bolognese succedevano cose terribili ossia la linea gotica che era poco poco sopra Marzabotto portò a delle fasi della resistenza molto importante Bologna il centro storico di Bologna era chiuso in quella che veniva definita dai tedeschi Sperzon era la militarizzazione delle porte storiche per entrare per uscire occorreva un pass questo pass aveva un marchio un timbro con la firma di Kesserling il movimento partigiano non aveva nessun problema a falsificare un documento ma il problema vero era la falsificazione del timbro perché il timbro portava a caratteri goticheggianti la firma di Kesserling allora la cosa più difficile è la firma la firma di Kesserling ho detto è il terzo giorno che provo ormai sono perché le disegnavo che sembrava una firma gotica tanto era bella svolossante allora imparo e allora ho detto che le firme sono dei disegni e quindi un disegno una firma qualsiasi la so fare non sono un partigiano però però voglio dire una cosa ho fatto le cose che loro non sapevano fare ho scelto la resistenza ma che resistenza è stata la mia quando ho detto non si può uccidere un sista perché è un italiano perché non ci vuole un processo allora partiamo da valori profondamente umani cristiani allora scopri l'uomo nel 1945 a Bologna fondo assieme i pittori Mandelli Corsi Minguzzi e Rossi il gruppo Cronache aprendo anche un'omonima galleria d'arte ciò che in particolare si diffuse tra i più giovani fu il desiderio di conoscenza la volontà di rompere i limiti culturali che il fascismo e la guerra avevano brutalmente imposto per Borgonzoni rimasero irrinunciabili le radici l'identificazione con la gente della bassa la convinzione che l'arte dovesse interpretare le trasformazioni sociali nel 1948 alla Camera del Lavoro di Medicina esegui in stile neocubista il grande dipinto murale storie del lavoro e della guerra ad oltre un settantennio l'esito rappresenta un raro esempio di pittura sociale i murali di Borgonzoni sono stati pubblicati in vari libri tra cui dei PCI Artist dell'Università di Siviglia nel 2015 e sono stati oggetto di studio da parte dell'Università californiana Yale sempre nel 1948 divenne organizzatore a Bologna a Palazzo Re Enzo della mostra della Alleanza della Cultura che definì il campo fra artisti figurativi in consonanza col Partito Comunista e altri che ne rifiutarono gli indirizzi il pittore Renato Guttuso partecipò alla mostra invitando poi Borgonzoni a dipingere nel suo studio romano di Villa Massimo ne fece anche gli elogi in un articolo pubblicato sul Progresso d'Italia Fino a metà degli anni 50 l'artisto operò nell'ambito del realismo sociale Nel 1950 eseguì nella casa del popolo Antonio Gramsci di Vignola il ciclo di dipinti murali storia del movimento operaio e contadino padano oggi andata perduta un'altra sua opera di grande formato tramonto del mondo contadino è oggi collocata presso la sede della regione Emilia Romagna di Vigila Nel 2006 viene fondato dal figlio Gian Battista l'archivio e centro studi Aldo Borgonzoni per documentarne l'attività Eccoci, noi attualmente siamo nel cuore dell'archivio là dove praticamente vengono fatte le archiviazioni dove vengono acquisiti dei nuovi documenti sull'artista dove viene l'elaborazione culturale e il rapporto con i collezionisti L'archivio che ha già realizzato nel 2018 il catalogo generale delle opere di Aldo Borgonzoni con mille opere pubblicate, delle quali 600 praticamente a colori evento che è stato presentato alla Sabbath Mater dell'archiginasio di Bologna Appare evidente ed è chiaro che unicamente le opere che sono state archiviate hanno titolo per essere immesse nei circuiti culturali che contano Questo è molto importante perché è una garanzia che l'archivio dà ai collezionisti ed è onorato l'archivio per avere archiviato ad oggi oltre 1200-1300 opere dell'artista La nostra attività nel nome di Borgonzoni è nata con l'elaborazione del catalogo generale delle opere pittoriche del maestro e che è poi proseguito negli anni successivi con un ulteriore lavoro di ricerca e di aggiornamento di quelle che sono anche le emergenze che sono arrivate al nostro archivio da parte di studiosi veramente da tutto il mondo dalla Spagna, dall'America naturalmente dall'Italia sono arrivate richieste di collaborazione per ricerche specialistiche di laureandi e per dottorati di ricerca Cosa provano il vedere le sue opere in televisione? Infatti il dialogo che abbiamo avuto alla prima mezz'ora era molto più tranquillo adesso sono emozionato proprio A cent'anni dalla nascita del pittore Aldo Borgonzoni l'Istituto per i beni culturali dell'Emilia Romagna propone una serie di mostre e convegni per ricordare un esponente di spicco dell'espressionismo europeo è uno dei più importanti espressionisti del suo tempo del Novecento ha rappresentato quindi la storia di questi territori attraverso la documentazione sul lavoro i disegni, la resistenza quindi è davvero un interprete a tutto tondo del suo tempo Continuiamo a parlare di lavoro un tema al centro di molte opere del pittore Aldo Borgonzoni alcuni di questi dipinti si possono ora ammirare al Museo d'Arte Moderna di Bologna Nel centenario della nascita sono molti gli eventi dedicati al pittore bolognese Aldo Borgonzoni la mostra del Museo di Arte Moderna di Bologna si propone di sondare uno dei temi più cari all'artista quello del lavoro tema per lui imprescindibile, quasi obbligato che in quella società contadina delle nostre campagne vedeva l'anima stessa della terra la base della nostra cultura Aldo Borgonzoni speciale Aldo Borgonzoni una grande produzione quella curata dall'archivio centro studi Aldo Borgonzoni ed Arte Network Horler per, diciamo così, rimettere in piena luce la figura di un artista importantissimo del Novecento e in questa trasmissione cerchiamo di raccontarlo alle mie spalle iniziamo come è necessario dal dopoguerra con tutto quello che abbiamo sentito spero abbiate apprezzato dal centralino mi hanno detto già molti commenti già molti interventi da parte vostra e vi ringrazio io non mi potrò perdere in troppe disamine per quanto mi riguarda perché al centro di tutto parliamo di un grande pittore del Novecento e di alcuni suoi amici sodali insomma vedrete quali maestri vi ho citato Giorgio Morandi Virgilio Guidi Renato Guttuso se ne è parlato contrasti e amicizie è vero storie di vita come quelle straordinarie della guerra straordinarie tristi e felici al tempo stesso storia di contrasti storia del Novecento il secolo breve io nel rileggere vari una sterminata bibliografia e ontologia critica sull'opera e sull'operato di Aldo Borgonzoni ho attinto da questo bel volume electa Arturo Carlo Quintavalle in occasione della presentazione e donazione di opere il Fondo Borgonzoni all'Oxac Università di Parma il professor Quintavalle e tanti altri documenti ho estratto una frase che mi piace proporvi all'inizio di questa trasmissione con alle spalle le storiche opere del 1947 quindi siamo in quel dopoguerra Borgonzoni ha frequentato Guidi che ha salvato letteralmente salvato dall'esecuzione da parte dei dei partigiani è vero durante la guerra Guidi è a Bologna Borgonzoni è appena tornato da Parigi dove si è recato appunto nell'immediato dopoguerra questo è il celebre autoritratto su telaiuta di Aldo Borgonzoni del 1947 e questo è lo storico dipinto dove le influenze guidiane per così dire sono tanto evidenti questo è un Aldo Borgonzoni del 1947 è il quadro con cui Aldo Borgonzoni è presente pensate alla storica edizione della Biennale Internazionale d'Arte di Venezia del 1948 questo quadro è intitolato L'incontro è una sorta di autoritratto di spalle dell'artista spogliato di tutto figura è nuda che tiene per mano incontra la figura amata che in questo caso è una donna velata e poi ci saranno storie che vi racconterò riguardo anche questo eccezionale quadro Biennale di Venezia del 1948 così come incredibile è questo dipinto che già molti esegeti hanno letto questo autoritratto in cui c'è la figura presente c'è la pittura presente ma il volto è soltanto una forma è soltanto un'apparizione se pensiamo che questo è un quadro del 1947 signori incredibile come senza dipingere i tratti somatici del proprio volto l'artista si sia reso riconoscibile è lui lo avete visto poco fa intervistato in quel lungo film documentario più volte sapeva parlare sapeva dire di sé con la propria umile figura e la frase che vi voglio proporre è appunto una frase di Aldo Borgonzoni la mia pittura è lieta e drammatica lieta nel senso della speranza drammatica nel senso che coglie l'uomo nella pienezza dei suoi contrasti è una frase secondo me limpida toccante è una frase che si potrebbe adattare al meglio dell'arte del secolo breve fra le due guerre mondiali e poi in tutto ciò che stiamo ancora vivendo dopo 80 anni da quei giorni è vero e beh signori i contrasti lieto e drammatico andiamo ad analizzare le opere di un artista straordinario quale è stato Aldo Borgonzoni se questi sono alcuni tra i capolavori del 1947 adesso inizieremo ad alternare in presentazione se poi qualcuno tra voi è il bello della diretta è vero ci chiederà intervento di approfondimento su di un'opera su di un'altra siamo qui a vostra disposizione per farlo appunto tanto per intenderci se questo è il famoso incontro del 1947 dipinto da Aldo Borgonzoni invitato poi con questo quadro alla Biennale di Venezia del 1948 ecco che a fianco noi esponiamo un'opera proprio di quel Virgilio Guidi a cui letteralmente Aldo Borgonzoni ha salvato la vita durante la guerra mondiale e Guidi artista quante volte ve lo abbiamo proposto in queste nostre trasmissioni il tema di un Guidi artista immensamente sottovalutato ancora oggi dal mercato è il medesimo tema che affrontiamo nel far luce sulla figura statuaria in senso artistico di Aldo Borgonzoni e questo però è un nudo nella stanza di Virgilio Guidi del 1927 questo è un quadro importantissimo di Guidi che ci sembrava guardate un po' gli equilibri pittorici sono trascorsi vent'anni è vero era bimbo Borgonzoni quando è vero quando quest'opera è stata dipinta da Guidi e la maturità ispirandosi a Guidi in larga parte con questo incontro del 1947 l'ha già dimostrata nell'immediato dopoguerra e poi vedrete come cresce come sorge come erutta come erompe la pittoricità quella che da tanti storici dell'arte è stata descritta come la più incisiva forma espressiva pittorica in Italia in alcuni momenti del neorealismo e poi di quello che diventa un realismo espressionista ci sono i quadri dove si trae la chiara ispirazione da quel viaggio compiuto nel 38-39 in Germania all'alba della tragedia ma perché Borgonzoni va in Germania? per vedere i quadri degli espressionisti di Max Beckman di Gross quelli che il regime nazista stava già diciamo così proponendo come arte degenerata ed è in quell'humus che rinasce e sorge uno dei talenti straordinari di Aldo Borgonzoni poi vi parleremo guardate qui a proposito di Biennale di Venezia Brindisi perché di tutti gli artisti attenzione di cui presentiamo opere in alter questo è il famoso contadino che riposa del 1950 opera che Remo Brindisi espone alla Biennale di Venezia del 54 tutti gli artisti Brindisi e Guidi adesso vi parlerò anche di altri su questa prima parete e poi allargheremo gli spazi nella nostra trasmissione di oggi di tutti gli artisti che non siano Aldo Borgonzoni di cui vi proporremo lavori sappiate esiste ed è tutto documentato ve ne abbiamo parlato già nel film documentario all'Oxac di Parma il rapporto epistolare diretto quindi fisico vedremo anche proprio io potrò prendere in mano e mostrarvi la trascrizione della lettera autografa di Renato Guttuso oppure quelle di Giorgio Morandi che spesso è in contatto con Borgonzoni cioè vedremo le opere di quegli artisti che sono più vicini a questo straordinario maestro ditemi dal centralino già commenti messaggi telefonate bene grazie non ho mai dubbi sulla vostra partecipazione andiamo al Vise oggi abbiamo anche l'assistenza di Alberto dal autoritratto del 1947 guardate e rimaniamo in quell'epoca poi via via entreremo negli anni 50 negli anni 60 andremo a vedere altri quadri altri momenti creativi di questo artista c'è evidente in alcuni momenti della carriera di Borgonzoni diciamo così il dibattito culturale di cui si è parlato i realisti da un lato gli astrattisti dall'altro il fronte nuovo delle arti quando si parla del 47 e del 48 si entra in scena oltre Guernica con tutti i movimenti artistici diciamo così che pongono è vero le pietre migliari di quelle che saranno le cosiddette neo-avanguardie ebbene guardate allarghiamoci ancora un attimo Alvise ti prego perché se quello è l'autoritratto del 47 e quello è l'anno in cui Borgonzoni effettua il viaggio in Francia per andare a scoprire le novità e a incontrare talenti è vero altri Parigi in quei giorni è letteralmente la capitale mondiale dell'arte dove avvengono le cose ci sono Picasso si parla tanto del neocubismo e c'è una sorta di migrazione di talenti a volersi confrontare con l'atmosfera parigina Borgonzoni va e guardate questo è un dipinto del 1947 47 di Aldo Borgonzoni dai sentori quasi alchemici magici suggeriti pittoricamente con una materia grassa su una tela iuta poverissima immaginate le povertà di cui vi dovrò parlare del dopoguerra dell'immediato dopoguerra quell'autoritratto sfumato alla definizione della forma al gioco geometrico la tavolozza è quella la tavolozza è ispirata dei colori che sono freddi ma suggestivi non ne rompono ancora i gialli i rossi che troveremo in Borgonzoni così come in Guttuso e in tutta è vero la diciamo così il filone più definitivamente neorealista è vero nella pittura italiana ma troviamo suggerimenti troviamo accenti troviamo clamorose me lo fai vedere subito da vicino ti prego questo è il quadro che ho alle spalle vedi mi sono avvicinato al centralino e già subito qualcuno tra voi in diretta dice ma è il quadro astratto di cui non sta parlando che ha alle spalle il presentatore ora ve lo dirò però godiamoci questo meraviglioso dipinto di Aldo Borgonzoni è il numero 6 della nostra evidenza di oggi per chi volesse chiedere informazioni a riguardo guardate a parte un paio di pezzi che ci sono stati prestati da istituzioni e da collezioni private ve li segnaleranno al centralino che non sono disponibili per la vendita praticamente quasi tutto quello che vi proporrò quest'oggi è disponibile per il vostro eventuale interesse è disponibile per il vostro eventuale interesse questo è un quadro incredibile vero signore e ora vi svelerò un'eccezione particolare che lo rende uno tra i quadri a mio modesto avviso speciali e ce ne sono tanti in questa trasmissione ve lo dico ve lo dico ve lo dico sì sì ti rispondo cara mi avete chiesto di chi sia questo quadro sarà sembrato strano a qualcuno vedere un Borgonzoni post cubista semi astratto è vero di questa tipologia e infatti qui veniamo a dire di un altro autore così come Guidi così come Brindisi così come Guttuso, Morandi e altri che ho citato di cui vedremo anche il rapporto diretto amicale il sodalizio il rapporto epistolare con Aldo Borgonzoni questo è un quadro del 1950 di uno dei pittori e mi piace dirlo qui se ho citato altri nomi Rotelle, Morandi Guttuso e Rosai Sassu e quanti altri che sono comunque consacrati scusatemi dal mercato oltre che dalla storia e dalla insomma e dall'antologia critica riguardo il Novecento è un altro tra gli artisti un po' come Borgonzoni che sono non dico dimenticati ma Sergio Romiti questo è un quadro di Sergio Romiti del 1950 questo è un quadro di Sergio Romiti mi permetto di farvi notare grazie letteralmente straordinario del Cinquanta del Cinquanta non è anni Cinquanta è proprio datato 1950 e adesso invece subito prima di preparare non so ditemi voi dalla regia se abbiamo un'altra telecamera o se dovremmo fare tutto chiedendo l'intervento di Marcello cioè un'altra telecamera già adattata a poterci spostare in un'altra sezione dello spazio ma altrimenti faremo quel gioco che a noi piace di suggestione su di un'opera è vero ma vi voglio grazie ci sono già segnalazioni vi voglio far vedere l'eccezionalità ulteriore di questo qua avete visto il Romiti Romiti del Cinquanta questo quadro questo quadro perché questo quadro fermati così amico mio con la telecamera guardate il mio gesto Borgonzoni lo ha dipinto sul retro di una tavola vi chiedo scusa su cui aveva dipinto una una crocefissione un Golgota no 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 fai vedere il quadro la cornice non ci interessa fai vedere le donne piangenti ai piedi di quel crocefisso un quadro di Aldo Borgonzoni altro che fa da contrapunto a quella figura femminile post cubista del 1947 e qui vedete questo è un quadro successivo e rompe quella tavolozza quei violetti quei celesti quei colori di suggestione sono diventati invito per una raffigurazione che ha schema classico impostazione Rembrandtiana è vero è un tema che ne abbiamo visto anche nel documentario di poco fa diventerà comunque un tema quel essere lieto e però anche drammatico nell'animo così come è stata la persona è la storia del novecento è la storia di quel che verrà nella maturità un pensiero lui che era stato partigiano iscritto al partito comunista ha dipinto alcuni tra i cicli pittorici più importanti d'Italia come le pitture murali della Camera del Lavoro di Medicina come quelle distrutte è vero della casa Gramsci di Vignola beh insomma il nostro Aldo Borgonzoni artista di livello diciamo così assoluto e opere come questa lo dimostrano perché poi io sarò obbligato quest'oggi a parlarvi anche di mercato è il mio è il mio compito un capolavoro del 47 come questo quanto costa rispetto a quelle che sono le quotazioni di artisti ben più noti siamo pronti con un fermo immagine regia grazie così mi libero per potermi muovere nell'ampio spazio che ci ospita spazio eventi attenzione all'opera numero 6 attenzione all'opera numero 6 attenzione all'opera numero 6 di Aldo Borgonzoni quella figura femminile che al retro porta hai la nota? sì eccola che al retro porta una crocefissione una diciamo così un'opera altra di Aldo Borgonzoni e poi forse lo ricordate se avete seguito con noi il film documentario e non da un attimo fa e ringrazio nuovamente l'architetto Gian Battista Borgonzoni la dottoressa Daniela Bellotti tutti quanti sono intervenuti sono intervenuti nel sostenere questo nostro impegno per la promozione di questa eccezionale trasmissione il tema della terra la terra contadina le mie mani le mie radici vedete è il titolo che abbiamo voluto dare a questo speciale perché è un artista che è nato e cresciuto a medicina e quindi in una terra che all'epoca in cui lui era nato Aldo Borgonzoni era terra infestata dalla malaria è vero sì siamo tra il delta del Po e il Reno siamo nella profonda bassa pianura che da Bologna siamo a metà strada medicina a metà strada tra Bologna e Imola è vero siamo alle porte della Romagna siamo nei campi nella terra grassa che però all'epoca era terra dura da lavorare e terra di povertà di povertà come in tante altre zone d'Italia ma al nord vicino alla grassa e ricca intellettualmente Bologna quella era terra veramente dove ci si spaccava le mani a lavorare la terra nuda e il tema della terra della povertà di una famiglia poverissima la madre di Aldo Borgonzoni venditrice di stracci c'è quel racconto incredibile avete sentito che lui fa o forse non ricordo se nel documentario accennato io ne ho letto Borgonzoni che dice io da bimbo ho questi ricordi della mamma nella casa dove abitavamo ero piccolo lei passava le giornate a dividere gli stracci le appendeva ad asciugare e io vedevo macchie di colore vedevo pezzi di stoffa lacerata di molti colori e quando nei quadri si trovano questi guardate il riposo delle mondine e siamo esattamente ve lo dico nel 1964 oppure guardate che quadro le due mondine olio tecnica messa su tela 1955 mi fai due zoomate quando vedo questi grumi di colore il seno le mani la corposità di una figura è vero i contrasti colori caldi freddi accenti di tavolozza un poco dovunque nella terra il fascio di riso fra le mani e poi altro io rivedo quelle parole di Aldo Borgonzoni bimbo che dice la mia mamma appendeva pezzi di straccio pezzi di colore e io ci giocavo e mi entravano negli occhi e forse è stato quello senza neppur disegnare a darmi il senso cromatico che poi porterò per tutta la vita nel lavoro che ho scelto nella prova e lui che non è stato certamente accademico e ce l'ha raccontato quadro incredibile questo piedi scalzi nell'umida terra dove il riso è vero germoglia le due mondine quadro secondo me tra i più formidabili ma ce ne sono troppi ma ce ne sono tanti ora vedrete sì anche questo del 64 le mondine al riposo pensateci poi i primi che vi ho fatto vedere sono del 47 è vero e allora ci sono i quadri legati ne abbiamo visti alcuni sono in collocazione museale i temi tragici della guerra il massacro di Marzabotto e quanti altri ci sono i quadri del 48 appunto la casa del popolo gli affreschi morali straordinari e poi però torna dopo le evidenze appunto vissute sulla pelle tragiche il mondo partigiano le stragi la guerra gli orrori alla povertà alle radici alla terra le mondine e poi comunque c'è evoluzione c'è crescita così come nella cultura italiana di quegli anni non voglio essere io a ricordare il 1949 riso amaro Silvana Mangano Vittorio Gasman il capolavoro di Giuseppe De Santis il neuralismo De Sica e via e beh insomma signori è questa la cultura di cui ci parla Aldo Borgonzoni è questo il tema che ha e beh in quella prosperosa figura femminile guardate bene di una di queste mondine io rivedo la Silvana Mangano di riso amaro io eh signori miei quando poi leggi Quintavalle leggi Ragghianti quando ripensi a ciò che ha scritto Gianni Celati e noi l'abbiamo voluto citare è vero nel documentario guardando l'opera di un artista che troppi hanno dimenticato come Aldo Borgonzoni io devo per forza fare riferimento al neorealismo a De Sica a Giuseppe De Santis a riso amaro e poi dovrò quando vedremo i bimbi è vero e vi farò vedere tanti altri quadri dovrò fare riferimento a Pasolini e a chissà quali altri intellettuali italiani qui stiamo parlando con Aldo Borgonzoni veramente di uno tra i massimi autori intellettuali in pittura che usa il mezzo della pittura della propria epoca vieni procediamo perché vedete appena cerco e sento i vostri commenti è vero appena cerco un approccio un approfondimento su di un'opera e vengo travolto dal fatto che ne ho così tante altre da proporvi non so oggi come faremo a darvi conto di tutto perché vedete un altro artista che tra anni 40 e 50 diciamo così intrattiene un rapporto epistolare diretto con Aldo Borgonzoni è Ottone Rosai è Ottone Rosai e qui si torna al discorso di Guidi sono persone e personalità che hanno vissuto gli orrori della guerra lo schieramento politico il pensiero intellettuale che sta alla base della loro creatività artistica in modo distante se non opposto eppure trovano sinergia trovano rapporto amicale trovano rispondenza l'un nell'altro perché sono pittori perché si stimano l'uno e l'altro la povera gente il riposo delle mondine e guardate mani in tasca e nelle vesti di panno degli astanti di un bar di un'osteria il tavolo del biliardo rimembranze van Goghiane addirittura è così come in certi quadri di Aldo Borgonzoni in questo incredibile Ottone Rosai del 1949 1949 1949 pubblicato sul catalogo generale il grande arco è vero che delimita pittoricamente il diciamo così la scena è vero in cui si svolge tra l'altro nascondendo sotto il fascio di luce che di nuovo pittoricamente è qualcosa di incredibile di innovativo è una sporcatura di pennello gialla che rappresenta la luce dominante che nasconde la figura del giocatore sul panno verde del biliardo e poi le spalle l'aria di messa di quanti altri animano la scena di uno degli infiniti bar osterie è vero del paese italiano del dopoguerra della rinascita Ottone Rosai del 49 a fianco al riposo delle mondine di Aldo Borgonzoni numero 10 è questo interno olio su tela di Aldo Borgonzoni del 1957 e guardate l'interno di una casa poco fa con Rosai non ho potuto esimermi dal citare così reminiscenze van Goghiane e di nuovo la luce interno esterno illumina un desco una tavola una madre un bimbo l'intimità casalinga è vero il rifugio è un tema di tutto il più vero realismo italiano ma attenzione perché con i prossimi quadri mi permetto di fare notare a quanti tra voi più attenti ma lo so adesso giustamente mi stanno dicendo abbiamo annunciato più di 30 opere inedite di Borgonzoni e poi le opere degli altri maestri con cui questo artista intesse rapporti giustamente molti tra voi ci stanno dicendo beh voglio vedere tutta la mostra prima di chiedere approfondimenti su di un'opera su di un'altra giusta giusta considerazione qui è il mio impegno e di Alvise di Marcello cercare se non in maniera frenetica però insomma almeno in maniera ordinata e piuttosto veloce cercare di farvi vedere tutto e attenzione perché adesso dal ciclo delle mondine dopo aver visto i quadri degli anni 40 analizzando opere straordinarie anche come questa degli anni 50 che state vedendo ben documentata nei particolari adesso si viene a un tema che forse per chi conosce già e non sarete in pochi la pittoricità la poetica di Aldo Borgonzoni è forse meno indagato ritenuto meno importante perché al centro del cuore proprio al cuore della pittorica di questo artista sta la figura la figura umana il diciamo così il corpo è vero la materia viva che siano le mondine che siano altri cicli pittorici i lavoratori gli omaggi a Pelizza da Volpedo e poi i cardinali insomma sempre l'uomo il corpo la figura ma il paesaggio e ve lo dico adesso quando poi vi farò vedere anche i riferimenti e i rapporti di stima con un certo Giorgio Morandi i paesaggi dipinti guardate questo quadro amici miei i paesaggi dipinti da Aldo Borgonzoni nella propria carriera sono qualcosa di incredibile sono qualcosa di magistrale questo è un quadro numero 11 allora 1957 un metro e 60 per un metro e 15 di quadro lascio spazio alla telecamera perché lo indaghi nei particolari le materie le stesure le tensioni cromatiche che si sono un attimo diciamo così sopite rispetto all'incendio cromatico di alcuni quadri altri che avete già visto e vedremo la la corposità l'inquadratura dall'alto l'ampiezza del prospetto sulle colline la definizione tutta fatta con pittura che tanto somiglia a quelli di alcuni artisti informali dell'epoca pensate all'epoca in cui lo ha dipinto 1957 tra poco vi farò vedere gli Emilio Vedova e c'è un rapporto strettissimo sebbene la pittorica sia così distante tra Aldo Borgonzoni ed Emilio Vedova vi ho fatto vedere un Sergio Romiti poco fa poi parleremo di Guttuso pensate ai tetti di bagheria pensate alle alle campagne dipinte da Guttuso qui Borgonzoni dipinge con una materia pittorica che è una un derma è una texture straordinaria dipinge un quadro che è infinito 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 questo è un quadro pittoricamente tra i più ricchi che io ricordo di avere commentato ma attenzione ma non di Borgonzoni in senso assoluto poi per carità ho l'omaggio a Morandi o altri quadri strepitosi proprio parlo di materia pittorica di stesura di tecnica questo è un artista immenso ogni opera anche le più insospettabili lo testimonia ed è qui per mettermi in condizione di dirvelo tra un grande paesaggio e un piccolo paesaggio che vi avevo fatto vedere qualche giorno fa nell'annunciare questa trasmissione speciale il piccolo quadro ispirato alle Tofane periodo di Cortina museo Rimoldi le opere di Borgonzoni raccolte già negli anni 50 da uno tra i più grandi collezionisti di pittura realista d'Europa assieme ai Morandi e ai De Pisis ai De Chirico e ai Borgonzoni questo è il piccolo quadro intitolato le Tofane attenzione c'è un'opera di Mario Sironi c'è un'opera di Mario Sironi e torniamo all'argomento diciamo pure laddove quei contrasti di cui ci parlava Borgonzoni nella frase che vi ho citato attenzione alle specchiature ragazzi attenzione alle specchiature ragazzi qui c'è il vetro di copertura grazie guarda direttore io sono guarda direttore io sono entusiasta entusiasta mi fa piacere sentire anche i commenti che vengono dal centralino grazie no i contrasti lieto e drammatico ma i contrasti sono anche politici e perché no di come si guarda la società civile oltre che il proprio quello che Borgonzoni ha scelto il proprio compito e beh è chiaro Borgonzoni è uno di quegli artisti che ha scelto di dipingere come testimone del proprio tempo è certo che sì e Sironi che pure era il pittore del regime quello contro cui Borgonzoni si batteva anche proprio sul campo vi ricordate avete visto nel documentario gli episodi dell'epoca partigiana Bologna la città esatto dove per entrare bisognava passare alle porte il controllo dei tedeschi dei nazisti e lui si presta ad imitare la firma e beh insomma Sironi era il pittore del regime era il pittore eppure Borgonzoni riconosce a Mario Sironi bel quadro questo di Sironi questo è un Sironi allora aspetta della fine degli anni 40 olio su tela 60 per 50 le famose scansioni monolitiche è vero la pittura tutta fatta di una tavolozza povera di terre brune con alcuni accenti ocra e celesti derivati dal blu grassissimo olio su tela di Mario Sironi negli anni 40 dicevo Borgonzoni riconosce sebbene non condivida con l'uomo la tensione politica le idee e gli ideali però ne apprezza la forza dirompente di artista fondamentale nella storia dell'arte italiana ed eccolo ed eccolo qui tra i paesaggi che abbiamo esposto in questa prima sezione è ricchissima la trasmissione non avete idea io cercherò nella prossima eh no mezz'ora vedi ormai siamo già quasi là farvi vedere un po' tutto per avere poi metà trasmissione per poter approfondire i singoli temi abbiamo un'opera di Emilio Vedova abbiamo un'opera di Emilio Vedova dove le tavolozze quelle stesse di cui vi dico di certo Borgonzoni quello dei paesaggi di Sironi è vero di larga parte della storia poi il carattere di Borgonzoni viene fuori col tratto espressionista e lo vedrete fra poco in altre opere ancora ma vi dicevo abbiamo cercato un quadro abbiamo voluto un quadro per questa esposizione che fosse un Vedova non il Vedova semplicemente nero delle sciabolate pittoriche così dirette e ferine ma un Vedova che insolitamente guardate in che epoca 1960 mette mano al colore mette mano al colore e fa diventare la propria gestualità informale una tavolozza inconsueta con gli ocra e le terre con i blu e con i viola il nero c'è sempre ma è un Vedova fuori dagli schemi è un Vedova tempestoso nella gestualità grazie per le prime conferme meravigliose che giungono grazie per le prime meravigliose conferme che giungono quel riposo delle mondine non è già più disponibile grazie e lo so state chiamando in diversi per sapere ma quanto costano ma c'è la disponibilità di quel quadro qual è l'opera non in vendita beh sicuramente non credo sia possibile trattare ad esempio l'incontro del 47 il quadro della Biennale di Venezia quello è in prestito per la mostra per l'esposizione tutti gli altri finora avete visto e grazie allora per i primi interventi le prime chiamate amici cari Emilio Vedova 1960 e questa volta però lo facciamo in diretta caro mio andiamo guarda passiamo davanti ad un ampio spazio della nostra luogo d'ospitalità e beh perché là ci sono a traguardo guardate laggiù le opere quelle ampie più di due metri quelle sono le opere di Borgonzoni le più recenti però poi abbiamo creato le nicchie dove ci sono i documenti dove andremo ad attingere alle lettere autografe di Emilio Vedova quella documentata depositata all'Oxac di Parma no no ma aspetta poi rientriamo sai abbiamo tantissimo da fare vedere quella là è una scultura di Leoncillo là ci sono le sculture di Leoncillo così poggiate gettate tra il catalogo generale di Aldo Borgonzoni i testi di Arturo Carlo Quintavalle sulla civiltà contadina come racconto questa è una è una ceramica a smalti e secondo fuoco di Leoncillo Leonardo di cui lo ricorderete lo stesso Borgonzoni ci ha parlato per quanti rapporti hanno avuto quando Borgonzoni era a Roma ospite di Guttuso e aveva incontrato anche Leoncillo sì ma aspettate di Leoncillo abbiamo anche un capolavoro degli anni 30 ve lo faremo vedere più tardi allora brevemente guarda già che sono arrivato qui faccio un salto cronologico perché non avete visto non abbiamo voluto compilare esattamente una scaletta cronologica e antologica la nostra è una televendita signori e via dell'esposizione di opere di Aldo Borgonzoni facciamo vedere questi tre grandi quadri che sono di più recente data è vero nella vita pittorica di Aldo Borgonzoni poi rientreremo là a Spazio Eventi dove ci sono i Morandi e i Rotella le opere di Sassu e tutte alternate ai quadri di Aldo Borgonzoni degli anni 60 e 70 e vedrete altri quadri meravigliosi intanto numero 27 28 e 29 della nostra esposizione lascio spazio alla telecamera sono le tre grandi tele rispettivamente hanno incendiato la cittadella 1975 1,64 per 1,04 questo in visione sta andando in onda la scheda Alvise quindi ti puoi già posizionare sul quadro centrale con la telecamera sì perché qui con le opere degli anni 70 e 80 con questi tre immensi e straordinari quadri che testimoniano come Borgonzoni anche in epoca matura all'epoca lui aveva già 70 anni praticamente compiuti fosse ancora un pittore vivo vivace vitale creativo una tavolozza incendiaria una capacità pittorica inesausta un artista che sapeva in maniera camaleontica cambiare pelle nell'adeguarsi a temi che avevano arricchito è vero la sua pur già così documentata diciamo pure ispirazione c'è il famoso concilio vaticano secondo di cui si è parlato altri temi poi il tema virgiliano le bucoliche guarda che quadro la furia delle bucoliche 1981 è questo enorme dipinto di due metri quello pubblicato sul catalogo generale già pubblicato in sede museale no aspetta mi sbaglio scusate ma quello è il catalogo delle collezioni permanenti già pubblicato in sede museale quel quadro che mi avete immediatamente chiesto straordinario queste le furie delle bucoliche due metri per un metro e venti e c'è questo poi i bimbi che ballano 1985 mamma che quadro signori quello che vi stavo dicendo questo artista che dimostra come nell'85 fammi pensare aveva già ben più di 70 anni compiuti guarda come mi dipinge questo quadro guarda come dipinge questo quadro dove le figure delle mondine nei campi di allora i quadri con gli amanti è vero la povera gente la povera gente ma qui non me l'avete segnato era l'unica cosa che vi avevo chiesto l'unica allora no no chiedo scusa cose nostre di lavoro a me sembrava questo capisci direttore bisogna che controlliate dai allora questo è un quadro eccezionale questo è un quadro eccezionale questo è un quadro in cui ma sono tutti uno più bello dell'altro c'è un'inventiva c'è un'esplosività del colore le figure le devi trovare sono post cubiste ma sono rese moderne sono agitate Zigaina è un altro artista con lui ha strettissimi contatti Borgonzoni e qui si trovano degli accenti che ricordano in qualche maniera Zigaina tela 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 questa è una grande pittura su tela di Aldo Borgonzoni allora hai la scheda per caso Marcello hai il fermo immagine così in questo belle le luci qui torniamola torniamola giù sai perché ora vado un po' così un po' concitato perché se entro le 11 e 40 riusciamo a far vedere almeno la prima parte della mostra perché abbiamo così tanto guarda qua non mi viene da ridere perché cioè cito Zigaina faccio vedere una tela di due metri di Borgonzoni come quella ma avete visto che quadro quello ultimo che abbiamo che vi abbiamo inquadrato quei bambini che ballano e guardate qua Guttuso da un lato il lavoro nei campi di Aldo Borgonzoni dipinto nel 1958 e ci aspetta ci attende ma non ancora un attimo più in là dal furore cromatico che è di Borgonzoni che è di Guttuso pensate che quando Borgonzoni va a Roma è ospite con tutta la famiglia di Renato Guttuso eh ma insomma ci sono vi dico ci sono delle relazioni ci sono delle vicinanze tra alcuni che tutti noi sappiamo e giudichiamo tali i più grandi artisti del Novecento italiano e Aldo Borgonzoni è uno dei motivi che ci ha spinto a questo impegno a questa trasmissione a questo documento che spero rimarrà perché poi le nostre trasmissioni rimangono disponibili on demand vanno in onda in replica cioè rimettere in luce cioè posizionare una luce evidente sulla figura di Aldo Borgonzoni siamo noi del mercato in ritardo siete voi collezionisti siamo in tanti mi ci metto anch'io che abbiamo tardato a capire sì abbiamo tardato capire l'importanza e il peso quando uscì il catalogo generale nel 2018 io lo ebbi lo guardai lo sfogliai però non sono andato a vedermi la casa del popolo di medicina non sono andato a vedermi le pitture murali non sono andato all'Oxac di Parma perché tra l'altro c'era già stato lo spostamento dalla pilotta è vero all'abbazia fuori città dove lo sapete è vero il centro studi arte e comunicazione di Parma quello voluto dal professor Arturo Carlo Quintavalle è uno tra i più grandi musei d'arte d'Europa bisogna poi dirlo e là c'è il lascito Borgonzoni con 200 opere con tutti i documenti d'archivio è infatti è infatti infatti mi fa piacere lo staiate chiedendo quei bambini che ballano che è un quadro pazzesco signori allora dimmi ma le due mondine quello su cui mi sono permesso a fare di fare riferimento a Silvana adesso lo vediamo meglio se ne ci state chiedendo il quadro del 55 eh ma vedo che siete già indirizzati ma bravi signori è l'argomento di cui vi stavo parlando bisogna rifare luce sulla figura di Borgonzoni che trovi nei musei come l'Oxac di Parma che lo sapete è vero detiene alcuni tra i fondi fotografici più importanti del mondo 12 milioni di opere no non è un numero a caso ci sono 12 milioni di pezzi dimmi mandiamo la scheda allora mandiamo la scheda del Due Mondine che è il quadro che mi avete chiesto eccolo qua e poi torneremo a Guttuso torneremo all'altro quadro straordinario del 58 questo è un capolavoro questo io vi do un'informazione per chi dovesse essere interessato a trattare col nostro centralino i quadri in vendita capisci? da questa inquadratura non lo da queste immagini non lo capisci non lo puoi intuire questo è uno tra i quadri più grandi più importanti tra quelli che abbiamo disponibile ciclo della terra ciclo delle mondine questo è olio su tela 1955 un metro per 70 centimetri questo è un quadro fenomenale signori miei 55 archiviato ma ci mancherebbe altro catalogo generale ma ci mancherebbe altro attenzione questo è un tema importante signori le opere di Aldo Borgonzoni infatti vi stavo parlando di mercato anche per questo devono essere viste e catalogate dall'archivio centro studi Aldo Borgonzoni devono essere viste valutate e riconosciute dall'archivio centro studi Aldo Borgonzoni questo è un dato certo ed assoluto ci tengo a precisarlo perché così come accade anche ad altri artisti bisogna fare ordine bisogna riposizionare Borgonzoni bisogna diciamo così pulire il mercato da opere che non siano certificate che non siano riconosciute tali che non siano archiviate da chi ha titolo per farlo questo è un dato fondamentale che dovete tenere presente le opere che vi stiamo proponendo oltre come in questo caso ad opere storiche dai le mondine del 55 dio mio ecco le opere tutte devono essere certificate viste valutate o magari addirittura già pubblicate nel catalogo generale dall'archivio centro studi Aldo Borgonzoni questo e noi saremo per quanto possiamo vista la visibilità che il canale televisivo ci dà saremo tramite se vorrete però ecco questo è un dato assoluto e certo ci tengo a ribadirlo ulteriormente grazie allora altro quadro ciclo delle mondine del 58 i barattoli il mio studio la tavolozza celebre del Renato Guttuso che è così amico e anche per condivisione di intenti sociopolitici voi potete capire poi approfondiremo il tema però se vi interessa quel due mondine non arrivate secondi signori perché non ho un altro quadro capite e non ne ho un altro uno poco fa me lo avete già confermato quello adesso vi interessa cercate sempre di essere anche proprio disposti disponibili a dire lo vedo da vicino lo valuto dal vivo ci voglio pensare io per primo tela 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 olio su tela 1955 le due mondine Aldo Borgonzoni straordinario lo state rivedendo e noi intanto ci posizioniamo qui questo però ve lo devo dire subito quello che vedrete fra un attimo è un qua questo è un capolavoro questo che state vedendo è un capolavoro signori e questo invece che vedete alle mie spalle non è in vendita è uno dei due quadri di cui sono certo non ho la disponibilità per proporvelo in vendita è il celebre omaggio a Morandi che Aldo Borgonzoni ripinge nella seconda metà degli anni 50 e noi oggi accompagniamo in questa presentazione speciale l'opera che Aldo Borgonzoni dedica allo studio con gli oggetti di Giorgio Morandi e quindi soffoca e spegne la propria tavolozza per confrontarsi col genio di Grizzana ci sono un disegno appunto paesaggio a Grizzana autografo di Giorgio Morandi del 1961 e una celeberrima incisione una tra le più importanti questa potrà sembrar poca cosa ad occhio distratto ma chi invece tra voi dovesse avere una predilezione per il genio di Giorgio Morandi questa è in assoluto una tra le incisioni più celebri e più rare e più preziose di tutto il catalogo dell'opera grafica questo è il famoso Lamberto Vitali l'opera grafica di Giorgio Morandi no 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 stai con me in senso assoluto è la celeberrima incisione all'acqua forte del 1931 intitolata La natura morta con il panno La natura morta con il panno iniziamo però come doveroso non ce ne vorrà Morandi il genio del ventesimo secolo dal quadro di Aldo Borgonzoni che sebbene non sia disponibile per la vendita ci tengo a farvi vedere con dovizia di particolari perché è un quadro che dimostra l'ampiezza delle corde sensibili di questo straordinario maestro prego chiedi a uno tra loro Tomasina è il tuo incaricato guarda Gabriele vieni vieni Tomasina vieni allora allora signori allora signori qua qua è qui guarda qui grazie 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 adesso stavo sentendo quanti e quali i vostri commenti al centralino e vi ringrazio allora vediamo adesso i Morandi questo è lapis matita su carta autografo catalogo generale 1961 paesaggio a Grizzana Giorgio Morandi ci sono le lettere con Morandi adesso qualcuna la cito guarda ora che siamo arrivati a Morandi ora che abbiamo appena visto il Guttuso e non posso farlo con tutte però alcune le voglio citare alcune le voglio citare signori guarda qua guarda qua guarda qua allora aspetta cerco Morandi me le sono trascritte quando Borgonzoni è sindaco sì sindaco perché è diventato anche sindaco di va beh insomma allora illustrizione un sindaco solamente oggi scrive in una lettera autografa a Giorgio Morandi mi è stata recapitata a Grizzana il suo espresso mi scuso per l'involontario ritardo con molto piacere aderisco all'iniziativa per festeggiare scrive al sindaco di Grizzana l'amico pittore Aldo Borgonzoni che stimo assai come artista e per il quale nutro vivo affetto o segui suo Giorgio Morandi Grizzana 21 settembre 63 e qui ho la trascrizione questo però guardate è la copia che abbiamo ottenuto dall'Oxac di Parma fotostatica dell'originale che è un documento importante ve ne faccio vedere una tanto per dire 1948 caro Aldo ora vi leggo il testo e la firma qui giù è quella di con amicizia abbracci il tuo Renato tra l'altro è Guttuso è Guttuso che scrive nel 48 è l'epoca del fronte nuovo delle arti caro Aldo scrive Guttuso a Borgonzoni scusa se ti tempesto di lettere cioè c'era un assiduo scambio epistolare c'è il periodico che pubblicherà qualcosa sulla mostra di Bologna ti prego di mandare qualche cliché precisamente un tuo cliché scusate eh parentesi Stefano stai parlando con la persona interessata al quadro le due mondine questa è la lettera originale di Guttuso che scrive ad Aldo Borgonzoni scusami Aldo se ti tempesto di lettere c'è la mostra da fare ti prego manda i cliché per la pubblicazione una riproduzione di una tua opera poi apre la parentesi possibilmente le mondine cioè mandami quel quadro perché Guttuso ha capito l'importanza del fatto che c'è un artista che dipinge le povere scalze che passano la giornata nell'umido campo a raccogliere schiena piegata il riso capite pittura come impegno sociale pittura come manifesto politico pittura come base su cui ricostruire l'Italia non è ancora il boom economico ma ve lo ricordate nel video Borgonzoni intervistato che dice sì sì il boom economico ma io propendo con la mia arte per coloro che dal boom economico rimarranno immarginati e quel quadro è del 55 ora non so se a voi si scaldano i cuori ma sapere che ci sono stati in Italia artisti che con questo impegno hanno vissuto la propria esperienza grazie quest'altro è già in conferma sì però non abbiate esitazioni su quello là vieni 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 grazie sulle due mondine quello del 55 ma dai ma dai cioè ma qui hai capito ti vai a leggere Guttuso ti vengono i brividi vai a leggere cosa scriveva Morandi se senti amico mio scusami torna in diretta grazie Marcello se i quadri che scegli per te per la tua collezione se le opere che ti animano di passione se sei veramente collezionista adatte del 900 importante dai siamo seri hai chiesto il prezzo di quel Guttuso e ormai è questo il punto vieni facciamo vedere anche l'incisione cioè quanto devi investire per comprare un Guttuso discreto non dico un Guttuso capolavoro degli anni 50 a quanto ti viene proposto quel capolavoro di Aldo Borgonzoni del 55 che stai vedendo è questione di scelte è questione di tempismo è questione di anche poi non soltanto avere i quadri meravigliosi belli appassionanti di cui puoi leggere riferimenti storici ma anche molto concretamente quanto hai speso per avere quelli e che storia ti racconta quel quadro perdonatemi è la nostra storia è la storia del paese in cui siamo nati cresciamo i nostri figli viviamo è il paese dei contrasti e il paese ma certo e questi sono i pittori che lo hanno descritto meglio di altri ma guardate sono pochi poi invece torna su di me ti prego non per narcisismo ma per dire una cosa importante la maggior parte dei pittori di cui ci occupiamo soprattutto se andiamo a cercare le opere degli anni 50 come quella come quella là come queste degli anni 60 che vi farò vedere adesso c'è quei bambini in maschera che secondo me è uno tra i quadri più belli che io abbia esposto in queste sale negli ultimi anni se volete ve lo dico assieme a quel grande paesaggio che è alle spalle del mio amico operatore alla telecamera amici perché questi artisti dipingevano certe opere avevano senso avevano a che fare con la storia avevano un impegno avevano solo uno spunto creativo oppure come la maggior parte degli altri autori di cui non voglio far nomi quei quadri li dipingevano per compiacere il mercante per far bel mostra di sé del proprio Enel Salotto per motivi meramente commerciali c'è una distanza c'è una differenza c'è un valore altro in alcune opere di un artista come Aldo Borgonzoni così come di Morandi e di tanti altri e voi lo sapete allora facciamo vedere un attimo l'incisione grazie comunque lo so che ci siete vi sento allora facciamo vedere questo capolo di incisione di 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 guarda c'era la lettera di Rosai caro Borgonzoni sono dovuto partire perché Vallecchi doveva trovarsi è a lei a dirigenti invio i più sensi vivi della mia riconoscenza è perché loro l'hanno lo hanno accolto non potrò mai dimenticare l'accoglienza avuta da voi bolognesi scrive Ottone Rosai nel 53 ma sì dai poi c'è Brindisi che gli scrive sì ma questa cosa tu non l'hai notata direttore la lettera di Brindisi scritta a Borgonzoni depositata all'Oxac riguarda la Biennale di Venezia del 54 e il quadro che noi esponiamo oggi di Brindisi è quello della Biennale del 54 eh ma dai capolavoro questa incisione di Morandi l'incisione con il panno con il panneggio incredibile lastra incisa all'acqua forte dal genio di Giorgio Morandi no no quello lo sapevamo non era in vendita l'ho dichiarato non in vendita e attenzione perché adesso c'è un punto di rottura sì un punto di rottura nel nostro excursus perché vi presento un'opera di un artista che sembrerebbe entrarci poco o aver relazione relativa con con Aldo Borgonzoni ma sto andando a cercare la lettera è una lettera è una lettera che nel 90 Rotella scrive ad Aldo Borgonzoni caro Aldo ecco le due righe che mi hai chiesto riguardo i sassi ricordate la vicenda dei sassi del 49 dipinti a Roma Rotella si dichiara e dice quando all'epoca ero a Roma eh in piazza di Spagna mi fece vedere dei sassi splendenti era lui che li dipingeva lo spirito della sua pittura era stratto espressionista ma che belli dice Rotella dei sassi dipinti da Aldo Borgonzoni non sono stato io a portarlo via però l'amico che era con me era così rapito che se ne era messo uno in tasca è un episodio che ha raccontato anche Gian Battista nel film documentario bene in quella Roma dove vive Borgonzoni ospite di Guttuso in quella Roma dove si confronta con Leoncillo in quella Roma dove conosce Rotella e ovviamente si ispira a piene mani anche dall'ambiente romano ma fai Scipione è vero la pittorica che sentiamo e vediamo più vicina a quella di Aldo Borgonzoni c'è Rotella che strappa i manifesti dal muro e ci sono i cosiddetti Retroff da Fisch io scusatemi ve lo devo fare notare o Rotella anni 50 pluridocumentato questo pensate addirittura alla pubblicazione sul primo catalogo generale delle opere di Rotella c'è una cosa fenomenale non ho parole per descrivervelo spero lo vogliate vedere da vicino perché qui ci sono letteralmente perché ci siamo impegnati tanto da volervi esporre questo quadro perché visto che Rotella scrive quella lettera a Borgonzoni ripensando ai sassi così importanti per Borgonzoni che dice li raccoglievo nel fiume da bambino sono state la mia ispirazione e poi a Roma quando conosce Rotella li dipinge in questo retro da fish di Mimmo Rotella ci sono i sassi perché? perché il manifesto che non vediamo perché qui ne vediamo il retro è stato strappato dal muro e ci sono i pezzi di calce calcinaccio intonaco e muro muro sassi sì non so come dire strappi via un muro e vengono via i pezzi del muro stesso dall'altro lato si vede il manifesto questo è un capolavoro questo entra un po' se puoi con l'immagine questo è uno dei Rotella anni 50 più importanti che abbiamo mai avuto no mi devi entrare di più non voglio vedere parete non voglio vedere cornice voglio che le persone possano vedere quello che io ho già avuto la fortuna di vedere guarda cos'è questo Rotella abbiamo cercato un Rotella che fosse un Rotella altro per poter documentare la relazione con Borgonzoni parlare dei Sa hai visto che cos'è hai visto che cos'è si intitola muro romano con impronte di pneumatici decollage su cartone del 1955 60 per 70 60 per 70 ma lo sai che i decollage quelli 20 per 15 oggi valgono 35 mila euro 40 mila euro quelli grandi come una carta di credito se sono quelli romani prima epoca degli anni 50 questo è un capolavoro questo è un capolavoro questo è un capolavoro ci sono i pezzi di muro ma che roba cioè questi sono proprio i Rotella sì è firmato è datato è pubblicato non so più come dirtelo adesso lo faccio vedere i bambini in maschera sì ho parlato di un quadro di Aldo Borgonzoni che si intitola i bambini in maschera ora ve lo faccio vedere arriva 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 qui ci sono vieni figure in periferia di Aldo Borgonzoni 1960 poi esponiamo un'opera di Aligi Sassu altro artista con cui c'è stato scambio epistolare massima stima e mi piaceva l'abbiamo voluto fare in allestimento guarda una volta tanto parlo mi parlo addosso sono stato io a voler posizionare questo quadro di Sassu la sua meravigliosa pittorica la sua ampia tavolozza la sua reminiscenza d'arcadia nei tempi moderni è un quadro della fine degli anni 70 degli anni 80 bello arrioso una sorta di rinnovato neoclassicismo perché? perché guarda allarga falli vedere tutti e tre l'ho posizionato laddove tra un'opera del 60 e un'opera di Aldo Borgonzoni del 58 cioè per far vedere come artisti diversi personalità diverse usano e intendono il discorso di poco fa il mezzo d'espressione pittorica Sassu illumina e insomma col proprio gusto estetico lavora anche mi permetto di dirlo per abbellire le case dei borghesi che comprano la buona pittura moderna Borgonzoni pancia a terra va dritto per la propria strada nel 60 dipinge figure che evidentemente sono entrate in lui quando ha visto a Berlino gli espressionisti a Monaco di Baviera gli espressionisti tedeschi Max Beckman i George Groetz quando guarda questo quadro guarda questo quadro del 1958 questo è un Borgonzoni del 1958 là di fronte ci sono le due mondine e qui ci sono i bambini mascherati olio su cartone telato un metro e trenta per settanta qui dentro ci sono altro che gli espressionisti Max Beckman qui c'è James Hensor qui ci sono qui c'è veramente il meglio del meglio del meglio di quello che il regime aveva definito la pittura degenerata e che invece Borgonzoni aveva capito essere l'arte nuova l'arte nuova oltre Picasso non so come dire oltre qualunque maestro il furore il sangue com'è che lo ha definito Borgonzoni ha detto il sangue della pittura il sangue vuol dire il fluido che ci dà la vita il sostegno il carburante della vitalità dell'energia è vero è certo il sangue il sangue il sangue della pittura ci sono artisti pure straordinari come Sasso che invece galleggiano è vero sulle vicende della storia e sull'andamento del mercato e sul proprio essere artisti e ci sono invece autori come Borgonzoni altro che galleggiare loro affondano loro si bagnano loro si immergono nella realtà e queste sono le opere che ce ne danno testimonianza quadro formidabile questo come quello non vi posso dire della materia pittorica dell'eccezionalità di questo di questo dipinto di Aldo Borgonzoni è perché se lo si vuole definire il realista espressionista il più vero il più autentico il più convincente sì ma non lo sto dicendo io io vi sto riproponendo le parole di Carlo Ludovico Raghianti di Francesco Arcangeli di Arturo Carlo Quintavalle della migliore critica storiografia dell'arte italiana del novecento se c'è motivo per credere che Aldo Borgonzoni sia stato il realista espressionista più vero della nostra epoca questi sono i quadri che lo testimoniano che ne fan ragione poi a proposito di bimbi fai vedere anche questo piccolo incredibile olio su telefaesite figure in campagna del 63 perché per chi tra voi dovesse dirmi io lo voglio un Borgonzoni in collezione io la voglio un'opera di Aldo Borgonzoni in collezione ma non ho spazio per un quadro grande ma non mi voglio impegnare per un quadro enorme allora prendete questo perché quadri piccolini di piccola e facile collocazione di epoca storica eh abbiamo solo questo solo questo ma cosa non ci sono alternative se cercate un quadro piccolino se volete un quadro di piccolo formato abbiamo solamente questo allora allora direttore adesso mi devi aiutare perché una parte dell'esposizione ben completa siamo riusciti a mostrarla sino ad ora no ma non voglio più dirlo ma no ma no ma no ma no sì ma infatti adesso te lo faccio rivedere anche il Guidi del 27 anche l'opera l'incontro poi vi devo far vedere un capolavoro di Leoncillo poi vi devo far vedere ma forse l'avete intravvista all'inizio la sì facciamo rivedere un attimo anche la prima parte quella dove avevamo iniziato questa infatti bravo eh ma no magnifico 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 ditemi voi eh dal centralino no brani del documentario quelli poi li potrete rivedere quando la trasmissione passa in replica ricordate sempre sul nostro canale streaming sul nostro sito Arte Network la trasmissione a partire da domani sarà visibile on demand quindi basterà cercare trasmissione in diretta di domenica 11 febbraio ore 10 speciale Aldo Borgonzoni e la potrete rivedere tra l'altro nel rivedere la trasmissione in streaming in on demand c'è la facilità eh appunto ovviamente di poter accedere a quella parte della trasmissione che vi interessa quindi rivedere il documentario rivedere l'approfondimento su di un quadro vedere l'inizio vedere la fine da domani sarà disponibile e divulgheremo con i nostri social network e con tutte le informazioni che vi necessitano la possibilità di attingere a questo lungo live oggi siamo in diretta è ovvio che dedichiamo al maestro Aldo Borgonzoni eccolo eccolo quello che era stato lo scenario dell'inizio della nostra trasmissione poi attenzione noi abbiamo ancora altre opere da mostrarvi per chi mi chiedeva approfondimenti sull'opera di Mimmo Rotella eccolo qua muro romano con impronte di pneumatici 60 cm x 67 del 1955 è pubblicato sull'electa sul famoso non ho capito cosa hai detto ah sì 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 sul famoso Sam Hunter introduzione Sam Hunter Rotella quel famoso volume electa dove sono elencati i decollage capolavoro del decennio 54-64 quello che vi esponiamo noi è del 55 ed è pubblicato qui questo è una sorta di vangelo è vero per i decollage di Mimmo Rotella degli anni 50 e quel capolavoro è pubblicato la Sam Hunter electa editore Mimmo Rotella molto molto bene grazie ho sentito alcune conferme ne ho piacere ho sentito alcune richieste di approfondimento ne ho piacere io pensando come sono abituato a fare adesso ci avviciniamo al mezzogiorno e abbiamo ancora ampio tempo a disposizione più di un'ora per diciamo così riprendere temi approfondire poi mi direte è vero voi dal centralino ragazzi se devo per caso fare vedere anche altro aggiungere ulteriori opere beh ad esempio il Leoncillo è un'opera incredibile di Borgonzoni che è la famosa porta quella che io e l'amico Gian Battista Borgonzoni il figliolo di Aldo del maestro chiamiamo l'uscio contadino eh sì insomma c'è un lavoro molto particolare di Borgonzoni che vi vorrò far vedere anche perché hanno lavorato i nostri amici qui anche all'allestimento e non voglio perdere occasione di mostrarvelo però insomma 1947 l'incontro il quadro con cui Borgonzoni viene invitato alla Biennale di Venezia del 48 questo è un pezzo non in vendita il capolavoro l'autoritratto del 1947 rimane in diretta grazie Marcello così guadagno un po' di tempo il capolavoro del 47 l'autoritratto e il Guidi del 1927 il nudo in un interno questo è un quadro che invece vi voglio mostrare perché per quanto riguarda Virgilio Guidi comunque figura importantissima anche nella crescita artistica di di Aldo Borgonzoni che poi si sa distaccare dal maestro sa diciamo così tagliare il cordone umbilicale che all'inizio lo ha legato con Guidi questo è un quadro eccezionale perché scoprirete così come sul favoloso adesso poi ve lo faccio rivedere il Borgonzoni del 47 quello dipinto tornando da Parigi l'artista poi ha dipinto anche il retro con quella formidabile crocefissione la stessa cosa accade per questo Guidi del 27 questo Guidi del 27 che è un quadro importantissimo scusate le spalle faccio tutto in diretta perché è importante io ve lo mostri questo quadro vedete al retro a parte tutte le etichette le appartenenze le mostre museali porta un altro quadro tanto la cosa incredibile è cosa rara vedi lo aveva firmato lo aveva firmato è una natura morta incredibile quest'uva sì i quadri di Guidi che possiamo andare a vedere sul catalogo generale del 25 del 26 il famoso la visita i quadri che sono nei musei italiani Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma sono quadri sembrano quasi vicini al realismo magico si potrebbe dire iperrealisti sono quadri di una finezza di una definizione guardate quest'uva lui probabilmente stava progettando un interno con natura morta di ispirazione così insomma realismo magico iperrealismo poi però non è convinto e il quadro allarga non lo finisce c'è qualcosa addirittura di depisissiano in questi fondi in questa apertura in questo scorcio e il quadro invece che finisce e il quadro che licenzia e il quadro che vuole lasciarci è questo probabilmente ha la modella nello studio probabilmente è un momento di vita probabilmente guarda che cos'è questo brano con la sedia e lo sfondo interrotto pittoricamente con la pittura che sembra un non finito ma è qualcosa di strepitoso è un Guidi che già occhieggia nelle tonalità terra morandiane certi rosa quello che verrà appena di lì a poco o forse si è già trasferito chissà l'area veneziana Laura veneziana qui ci sono già i colori del canale della Giudecca del mulino Stucchi questo è un quadro formidabile questo è un quadro di Virgilio Guidi 1927 davvero superlativo e c'è quella curiosità il fatto che questo quadro così come il Borgonzoni del 47 che vedremo tra poco dipinto double face cioè fronte retro a proposito del rapporto epistolare di Aldo Borgonzoni con vari artisti allora su questo Remo Brindisi noi lo avevamo proposto in vendita adesso in realtà io ho sentito il direttore Stefano Orle mi diceva guarda Guidi questo noi lo togliamo dalla vendita però ve lo volevamo fare vedere perché perché questo è il Brindisi della Biennale questo porta il bollino originale Biennale di Venezia del 1954 però questa cosa tu non la sapevi Stefano adesso te la dico nel mentre la comunico al pubblico in diretta televisiva allo XAC di Parma è depositata una lettera autografa di Remo Brindisi che ora io leggo caro Borgonzoni come saprai nella sala della Biennale sono stato collocato nella sala dei realisti me ne compiaccio mi sento onorato perché i miei interessi più forti li sento per il realismo prove ne ho dato l'ultima è la Biennale tu potrai constatarlo ma così la pensano gli amici che sono più vicini al realismo di conseguenza alla critica si dilunga ti scrivo tutto questo solo a titolo informativo perché tu sento dalla mia viva voce quanto c'è di vero in quel che palpitante da te ricevo in quello che offro non chiedo adesioni ma un esame onesto tu lo puoi cioè Brindisi sta dicendo vengo criticato da tanti tu mi capisci tu anche lì non la pensano alla stessa maniera su tante cose del mondo della società della politica ma pittoricamente si trovano vicini Remo Brindisi invitato alla Biennale del 54 dice ricevo critiche tu mi puoi capire tu lo puoi sapere abiti cura auguri per il tuo lavoro credimi se viene a Milano il mio telefono è questo ti abbraccio tuo Remo Brindisi 12 luglio del 54 qual è il quadro esposto nella sala dei realisti della Biennale di Venezia per cui Brindisi scrive questa lettera ad Aldo Borgonzoni questo ma ti rendi conto l'abbiamo scoperto mentre montavamo lo speciale Aldo Borgonzoni se non avessimo potuto accedere al fondo dell'Oxac all'archivio centro studi Aldo Borgonzoni a quella lettera non avremmo capito che ciò che Remo Brindisi scrive ad Aldo Borgonzoni riguardo le critiche riguardo l'appartenere al rarismo riguardo il condividere un'opinione del dipingere eh lui dipingeva le pastorali questo è il contadino che riposa lui dipingeva pure l'umile lavoro nei campi cioè se io metto questo nel 54 di fianco le due mondine del 55 di Aldo Borgonzoni chiudo il cerchio hai capito e c'erano tanti che in Biennale o altrove contestavano questo fatto dicevano ma perché loro siamo nel momento del boom economico siamo nel momento del florilegio di un'Italia nuova si ostinano a dipingere i poveri le figure scalze delle donne che lavorano nei campi Borgonzoni il contadino scalzo è vero che si rilascia affranto dal duro lavoro nel greggio hai capito sì loro si trovano perché sono artisti perché sono anime sensibili perché credono in quello che hanno fatto e fanno il mercato va altrove la fama va altrove i ricchi borghesi comprano altro però quel quadro le due mondine quel quadro i bambini mascherati questo quadro il contadino di riposa che ora giustamente Stefan Orle dice se è quello della Biennale qui dietro c'è il bollino originale Biennale di Venezia hai capito ed è quello su cui Brindisi scrive la lettera a Borgonzoni io lo tolgo dal mercato se il mercato non li vuole questi quadri a poche migliaia d'euro scusateci ce li teniamo noi li lasciamo ai curatori che ce li chiedono per le mostre li dedichiamo ad esposizioni come questa che vogliono essere ovviamente anche commerciali ma amici miei il mercato non lo faccio io da solo il mercato è il mercato ora poi vedremo io vengo invitato alle fiere alle mostre e non sento altro non mi si dice altro che hai visto c'è la nuova figurazione ci sono i nuovi talenti artefiera Bologna tutta pittura tutta figurazione i nuovi c'è la mostra in triennale a Milano 120 artisti la nuova pittura italiana sono quasi tutti figurativi e io ne sono entusiasta però però se abbiamo ancora artisti come Aldo Borgonzoni da rivalutare se abbiamo ancora quadri come quello come questo come quell'altro da poter valutare anche a cifre particolarmente invoglianti io dico sta bene tutto il vieni vieni tutto il neo figurativo però abbiamo un patrimonio di realismo espressionista di pittura italiana autentica convincente calda qualitativa permettetemi lo dico sottovoce piena di contenuti cioè artisti che dipingevano quello che dipingevano quando la storia ci diceva altro adesso io sto eludendo quello che ricorderete avete visto nel documentario i traguardi internazionali quando va a esporre a Londra quando va a esporre a dipingere a Praga ma anche l'impegno politico c'è quella foto di Borgonzoni vicino a Martin Luther King cioè gli intellettuali che a Praga nel 68 poco prima che arrivino i carri armati sovietici è vero a dichiarare una una luce nuova il comunismo illuminato la cosa il socialismo reale beh signori vengono i brividi cioè è pagina di storia capisci e questo artista c'era cioè parliamo di artisti che oltre al tratto pittorico oltre al tratto di rappresentazione della propria sono anche uomini coraggiosi sono anche uomini che vivono il proprio tempo e insomma questo a noi interessa davvero e credo di avere capito anche a molta parte del nostro pubblico questo è il quadro straordinario di Sergio Romiti del 1950 e volevo farvi rivedere perché lo abbiamo evocato poco fa quando abbiamo visto il capolavoro di Guidi dipinto sulle due facce della superficie il quadro di Aldo Borgonzoni del 1947 uno fra i primi quadri che Borgonzoni dipinge di rientro dal viaggio a Parigi che meraviglia ma su Brindisi io credo di aver capito potete chiedere così come su Rotella i quadri grandi grazie 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 c'è stata un'altra meravigliosa conferma questa è del 1947 questo è del 1947 olio su tavola 66 cm x 46 1947 Aldo Borgonzoni e adesso è in onda la scheda? è in onda la scheda? o sei tu in diretta? sei tu? allora grazie Marcello con la scheda così facciamo rivedere per chi non l'avesse visto eccolo là all'inizio della nostra trasmissione il retro perché nella scheda non mi pare sia stato documentato il fatto che c'è un'altra pittura di Aldo Borgonzoni sul retro vedete? tutti nessuno escluso abbiamo la scheda di quello del numero 24 il piccolo quadro le due figure è vero? questo è il retro del quadro straordinario del 1947 e poi Marcello una richiesta dal centralino se riesci ci aiuteresti molto con la visione della scheda possibile il piccolo quadro hai capito quale? quello piccolino quello di 15 centimetri bravo perfetto questo qua questo è il quadro che mi stavate chiedendo è il quadro nell'esposizione nostra di oggi il numero 24 le due figure si si va bene si si io torno a riproporvi tutta la l'esposizione e ripartiamo da qui e ripartiamo da qui perché adesso è obbligatorio per il nostro schema per il nostro format per il dovere d'ospitalità che vi è offerto dalla nostra trasmissione in diretta riproporre soprattutto le opere che vi hanno colpito che ci avete chiesto che vi hanno maggiormente colpito vi faccio rivedere questo capolavoro le due mondine del 1955 adesso vi farò rivedere il rosai vi farò rivedere e mi fa enorme piacere qualcuno li abbia chiesti in presentazione i due paesaggi e si perché in un artista qual è Aldo Borgonzoni basta impugnare il catalogo generale e sfogliarlo tutto grazie le opere che non trovate più sono quelle che avete già confermato e a noi visto che lassù c'è scritto sempre televendita non dispiace è vero alviso trovare ogni tanto delle pareti vuote un gancio sospeso quello ti fa pensare al quadro che c'era e non c'è più eh 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 signori cari questa è l'evidenza del fatto che in una trasmissione come questa se qualcuno poi la rivedrà in replica penserà ma io là non vedo nulla troppo tardi signori bisognava esserci in diretta bisognava partecipare bisognava per poter accedere in prima battuta alla nuova luce che si pone sulla figura e sulla statura del pittore Aldo Borgonzoni seguire la nostra trasmissione diretta vi ripeto mi fa molto piacere passiamo passiamo ma passa pure davanti anche se si vede la scultura di Augusto Müller anzi meglio è un altro artista con cui Borgonzoni ha avuto relazioni amicali e come e come e no ci tenevo perché scusate è un bronzo pezzo unico di Augusto Müller il famoso pescatore questa è una fusione a cera persa mi sono messo qui per farvi vedere che ha dimensioni reali io sono alto un metro e 86 e fate voi il conto guarda qua fusione in bronzo a cera persa pezzo unico di Aldo eh sì di Aldo Borgonzoni Lapsus di Augusto Müller signori guarda che roba sì ci sono le foto le abbiamo viste Borgonzoni con Müller a varie mostre è vero in cui si incontrano e si stimano immensamente altro artista lui scultore soprattutto la terra e sì insomma gli umori della terra che lui vive scolpendo il legno vivo e poi la terra dei suoi boschi e poi appunto queste incredibili fusioni questo è un pezzo incredibile questo è un pezzo straordinario il pescatore Augusto Müller fusione a cera persa pezzo unico e appunto le i paesaggi i paesaggi mi fa molto piacere abbiate chiesto i due paesaggi di Aldo Borgonzoni li abbiamo esposti su questa parete dove al centro sta un'opera di Mario Sironi adesso state vedendo la scheda del capolavoro di Augusto Müller il pescatore e poi eccoci torniamo in diretta io ho alle spalle l'opera di Mario Sironi non me ne vogliate perché sono grandi i maestri del novecento a cui facciamo riferimento Brindisi e Guidi Müller e Morandi Rotella e Guttuso Sironi e Leoncillo ma al centro di questa trasmissione sta la figura di Aldo Borgonzoni e allora io nascondo alla vostra vista se poi qualcuno vorrà lo faremo rivedere meglio il dipinto il mercato signori che è ovviamente più costoso più prezioso più importante se volete oggi di Mario Sironi e però invece vi propongo i due dipinti straordinari di Aldo Borgonzoni il grande quadro quello le colline emiliane le colline è vero è un paesaggio che lui non identifica precisamente in un luogo che quadro signori questo ve l'ho detto ma ve l'ho detto sinceramente spontaneamente già stamani presto all'inizio della trasmissione questo è un quadro pittoricamente parlando al mio occhio ma non soltanto è ovvio per quanto riguarda Borgonzoni è uno tra i quadri più ricchi e suggestivi facciamolo vedere il retro facciamolo vedere il retro facciamolo vedere il retro non hai il fermo immagine Marcello allora scusa mentre mi fai vedere il piccolino quell'olio su tavola intitolato le tofane la tofana che sia il periodo di Cortina gli anni 50 i rapporti con Rimoldi le opere di... no ma perché adesso scusatemi adesso 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 no scusatemi adesso io questo devo essere sincero non lo ricordavo è perché sai non è che si può ricordare tutto no questo è le tofane è il paesaggio del 56 le tofane quindi le dolomiti Cortina il rapporto con Rimoldi ma l'avete chiesto il prezzo ma fatevelo portare a casa questo quadro signori via vi prego prima che poi ora scusate la presunzione peccherò di presunzione nel dirvelo dopo questa trasmissione l'archivio Aldo Borgonzoni è già avvisato riceverà molti contatti per l'archiviazione delle opere chiamate possiamo venire a vedere le opere a medicina uh vado a medicina perché sai grazie alla trasmissione di Artenetro mi sono andato a leggere due cose e scopro che gli storici dell'arte gli insegnanti di storia dell'arte nelle università nelle accademie i cultori dell'arte del novecento giudicano le pitture murali alla casa del popolo di medicina di Aldo Borgonzoni tra le pitture murali più importanti d'Italia ci sono quelle di Sironi al tribunale di Milano ci sono quelle di Pizzinato a Parma ci sono quelle di Borgonzoni a la casa del popolo di medicina cioè si parla di storia dell'arte amici e via Morandi e Guttuso Guidi e Romiti la Biennale di Venezia e le altre relazioni cioè si riaccende della luce e si riaccendono i riflettori su questo artista non sarà più possibile trovare quadri come quello a quei prezzi poi scopro che guarda caso non lo ricordavo sono sincero il quadro che vi ho dichiarato onestamente è uno tra i quadri più belli che io abbia visto pittoricamente parlando negli ultimi tempi circolare qui ad Arte Network e ci metto dentro tutto tutto quello che abbiamo avuto scopro che è il quadro con cui Borgonzoni nel 57 partecipa al premio Morgan Paint biennale per la pittura la scultura il bianco e nero ente provinciale per il turismo questo premio era importantissimo era sponsorizzato da un produttore di pigmenti di colori Morgan's Paint ma questo premio cioè partecipavano non so partecipava Francis Bacon ma non sto scherzando questa è una roba importantissima da incollare a cura dell'artista sul retro dell'opera vedi colorificio toscano cioè lui partecipa con questo quadro al premio Morgan's Paint del 57 e poi questa è la sua scrittura autografa questo paesaggio interessò il professor Francesco Flora che determinò la mia personale alla galleria aureliana diretta da Mario Peneno per Roma nel 57 la mostra ebbe un grande successo capisci? lui è una persona così umile Borgonzoni così impegnata per non dimenticare il fatto che questo quadro interessa il professor Flora viene invitato allora e riesce ad ottenere la galleria aureliana che ebbe successo e ci fu il poeta Ungaretti che andò ad inaugurare quella mostra lui per non dimenticare quello che gli sembra un motivo di merito ma lo fa in maniera schiva proprio se lo scrive col colore ad olio sul retro della tela e questo è il quadro con cui partecipa al premio Morgan's Band che è un premio importantissimo perché ve lo ricordate lo sapete in quegli anni anche la Biennale di Venezia aveva il premio acquisto anche questo è un quadro ma questo è un quadro formidabile signori miei ma questo è un quadro formidabile se entri nel quadro chiedi di vederlo a casa tua amico mio chiedi di vederlo alla luce naturale ti sembrerà di vivere un autunno un tramonto d'autunno fra le colline italiane dell'Appennino guarda che roba ma guarda che roba i campi arati i tetti dall'alto le strutture delle case i cascinali i raggi del sole è vero che come dire spezzano il ritmo della visione questo è un quadro che contiene infiniti altri quadri questo è un quadro che contiene infiniti altri quadri di Aldo Borgonzoni e costa la cifra che costa e insomma quello che voi già sapete io vorrei ma non alzerò i toni per dirlo che qualcuno io so che qualcuno ha chiamato sta chiamando avete già confermato alcuni quadri facciamo rivedere le sironi facciamo vedere il dipinto di Emilio Vedova facciamo rivedere il piccolo io ho un altro paio di quadri ancora da proporvi straordinari ce li ho signori c'è quel madre e bimba quello pubblicato a pagina piena sul catalogo generale direttore quello lo vorrei fare vedere e poi aspetta vieni affacciamoci un attimo qui sul retro intanto io e te Alvise perché ci sono le tre c'è quel c'è quel bimbi che ballano che è un quadro straordinario ci sono le furie ma scusa tanto per dire guarda che trasmissione è questa nostra guarda che cosa ci mette in condizione di proporvi un approfondimento sull'opera di Aldo Borgonzoni qui dove nella nicchia abbiamo creato una ricostruzione di una minima bibliografia sull'artista ci sono un'altra ceramica originale di Leoncillo e scusa no scusa ceramica originale di Leoncillo chiedete il prezzo anche di questa eventualmente è il Leoncillo astratto il Leoncillo informale il Leoncillo lo scultore primo della cultura informale italiana che schiaccia le forme in un'evidenza che è la più diciamo così avvicinabile a quella che è la cultura informale e qui c'è un disegno di Fontana c'è un altro disegno di Fontana se là vi abbiamo esposto questo è un disegno questa è una matita questo è un pezzo unico di Fontana ed è una natura morta ci sono le famose bottiglie e caraffe questo è un piccolo disegno sì ovviamente documentatissimo di Giorgio Morandi cioè vedi un approfondimento sulla figura di Aldo Borgonzoni cosa ti consente ti consente di mostrare i Morandi e il Leoncillo ti consente di far vedere e beh qual era l'ambito in cui questo artista viveva con chi si confrontava perché lo so e questa di oggi è un inizio e poi l'inerzia delle cose ci porterà a considerare con lo scorrere del tempo di qui innanzi che cosa come verrà riposizionata la figura di Aldo Borgonzoni perché la storia lo sa già che Borgonzoni va parificato a Guttuso e Sironi Guidi e Morandi Leoncillo siamo noi del mercato signori che non lo sappiamo ancora è questo il punto no scusa già che siamo qui vieni 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 non avere paura no dobbiamo far vedere quello che c'è nella nicchia qui vieni vieni Aldo Borgonzoni senza paura guarda che allestimento suggestivo guarda in questa vetrina illuminata che cosa appare questo è l'uscio contadino è una grande porta di un'antica stanza di un cascinale di cui Borgonzoni si è appropriato per dipingerci sopra lassù ci sono è il Borgonzoni maturo che ha vissuto l'esperienza del concilio Vaticano II vi ricordate ne parla anche nel film documentario ci sono una sorta di corone di spine e un croce fisso e poi c'è questo profluvio di pittura e di colore in questa straordinaria porta il proposito di un'apertura futuribile grande grandiosa opera di Aldo Borgonzoni e poi già che siamo qui passo là davanti tu mi accompagni a fare rivedere attenzione al disegno di Morandi attenzione e beh Natura Morta di Morandi sai come fosse poca cosa diciamo ma sì avevano una matita di Giorgio Morandi un disegno e le tre grandi opere questa non è più disponibile questa si è disponibile quella straordinaria i bimbi che ballano è eventualmente disponibile per gli interessati e andiamo a fare vedere l'altra nicchia perché nell'altra vetrina a modi nicchia che abbiamo nel nostro allestimento a Spazio Eventi c'è un altro capolavoro di un altro artista che abbiamo già citato ed è stato in stretta relazione con Aldo Borgonzoni vieni ti accompagno io tanto di sfondo si vedono qui da noi si vedono solo e soltanto opere d'arte guarda a Spazio Eventi non sbagli mai non è che vedi altro c'è l'opera di Puglisi e Leoncillo Leoncillo fuoco della fine degli anni trenta questo è un capolavoro questa l'avevamo tolta dal mercato l'abbiamo tirata fuori dal cavo soltanto per mostrarla in questo special dedicato ad Aldo Borgonzoni forse di questa hai la scheda Marcello chissà oppure di un altro quadro chissà per liberare il sottoscritto dal vise perfetto molto bene grazie così torniamo in studio così torniamo in studio così torniamo in studio straordinaria ceramica policroma a gran fuoco di Leoncillo Leonardi no aspetta veniamo più ecco bene eccoci qua eccoci in diretta vi voglio fare vedere un ulteriore quadro ma io credo abbiamo materiale dopo la fine di questa trasmissione in diretta di oggi la prima che dedichiamo alla figura di Aldo Borgonzoni con tutti diciamo così gli intermezzi i riferimenti possibili agli altri grandi maestri alla storia che questo di cui questo artista straordinario è interprete e protagonista nella propria vicenda umana quindi le amicizie i contatti i rapporti epistolari le mostre in giro per il mondo tu pensa ci sono le opere di Aldo Borgonzoni al museo Puskin a Mosca ma sì ci sono le opere in alcuni musei importanti lui è esposto a Londra e a Praga in giro per il mondo e sì dopo il contatto con Rimoldi a Cortina le sue opere interessano un'importantissima galleria di Londra e iniziano ad entrare nelle collezioni internazionali accanto al capolavoro di Ottone Rosai del 1949 vi voglio proporre questo è il catalogo generale delle opere pittoriche di Aldo Borgonzoni all'emandi editore vi voglio proporre questo quadro guardalo pubblicato a pagina intera a colori è un quadro che lui dipinge per l'appunto a Cortina a Cortina nel prima metà degli anni 60 nel 63 se ricordo bene è intitolato Figure della Bassa la Bassa Bolognese la sua terra amata le sue radici medicina i campi e allora il lavorio nei campi il fazzoletto in testa a coprirsi dal sole e una bimba così come la madre veste gli zoccoli dimmi il numero di riferimento per chi volesse proporre una richiesta questo è Aldo Borgonzoni Olio aspetta te lo dico subito questo è il numero nella nostra lista è il numero 42 Olio su tela 1963 6'3 75 cm per 65 Olio su tela Figure della Bassa Bolognese Aldo Borgonzoni pubblicato a colori pagina piena sul catalogo generale alle mandi quello curato da Claudio Spadoni con la collaborazione di Daniela Bellotti allora eccolo qua abbiamo la scheda e qui ci sono tutti i temi di cui abbiamo parlato c'è tutto l'amore per le radici per la terra ci sono queste figure ieratiche queste figure stilizzate c'è questa materia pittorica incredibilmente tesa grassa corposa niente infatti infatti è una delle peculiarità del Borgonzoni di questo periodo però perché la affianco ho ancora quel dipinto del 55 Le Mondine e lì era un'altra stesura era un'altra pittorica era un altro artista Borgonzoni e lui è come tutti i più veri artisti del novecento è un artista che sa cambiare strada senza rinnegare le proprie radici è un artista che sa mutare pelle è un artista che sa adattarsi a ciò che vede al confronto fa il viaggio nel 38 in Germania per vedere le opere degli espressionisti e ne trae qualcosa poi ci sono le vicende della guerra dove è impegnato con la battaglia partigiana e però poi va a Parigi nell'immediato dopo guerra nel 47 noi abbiamo le opere che lo testimoniano ve le ho fatte vedere e sa mutare sa adeguarsi sa cambiare certi propri stilemi però non perde il senso di ciò che vuole rappresentare è un artista così lucido e determinato perché insomma lo si può definire un intellettuale e non soltanto un pittore perché è un artista conscio del proprio compito di testimone della propria epoca lui è uno tra gli artisti anche più impegnati dal punto di vista politico poi c'è quella vicenda famosa della casa Gransci di Vignola è vero del 48 grazie grazie signori per io vi faccio i complimenti perché vedo che nelle scelte siete straordinariamente orientati un po' mi sorprende il fatto che un quadro se devo essere sincero non abbiate già scelto di vedere a casa propria un quadro come questo io scusate signori miei ma davvero non posso non dirvelo perché il figura del 47 solo per la data l'importanza il paesaggio premio Morgan Paint e questo sono i tre quadro bravo no scusami perché è andata in onda direttore la numero 43 la mondina del 47 ecco l'altro quadro che dobbiamo fare vedere ecco l'altro quadro che dobbiamo fare vedere in diretta questo la mondina del 47 no lo dobbiamo far vedere fisicamente in diretta non dal catalogo adesso arriva però Marcello scusami è sì perché il confronto sarà straordinario torna in diretta tra quello del 47 con la tavolozza incendiaria e questo del 55 dove i toni si soffondono si spengono ma l'intensità della figura è ugualmente sembra sembra scolpita è vero sì lui fa una pittura in questo momento che sembra una scolpitura a modi segni di tratti e di pennellate è bravo ecco ecco il quadro che mancava per completare il discorso grazie a Marcello grazie alla regia sì perché ho quella figura della mondina dipinto nel 1947 che veramente chiuderà il cerchio così siamo entrati nell'ultima mezz'ora a disposizione mi potrò dedicare a qualche approfondimento a qualche lettura privilegiata a qualche vostra segnalazione in particolare questo è un quadro enorme in tutti i sensi questo è il quadro su cui in prima presentazione non ho potuto esimermi dal fare riferimento al neorealismo cinematografico e sì il riferimento a Silvana Mangano al capolavoro di Giuseppe De Santis a Riso Amaro beh scusa Riso Amaro è del 49 il quadro che vi farò vedere è del 47 questo che stiamo vedendo è del 55 l'epoca è quella sai e il momento è quello Borgonzoni è un protagonista del proprio tempo lui non si tira indietro lui dipinge ciò che vuole ciò che sente dipinge la terra dipinge i lavoratori dipinge le mondine dipinge i bimbi dipinge come pochi hanno saputo fare no è questo guarda eccolo adesso ce li ho tutti e due ci avete chiesto i quadri le mondine alcuni li avete confermati eccoli signori 1947 sono tutti pubblicati sul catalogo generale no non proprio tutti ma i quadri più importanti perché poi sai l'archivio sta lavorando e attenzione i quadri di Borgonzoni valgono e interessano solamente se sono certificati o dal catalogo generale o dall'archivio centro studi Aldo Borgonzoni è importante che lo ricordiate eccolo qui questo è 1947 1947 se ne è pubblicato a pagina intera sul catalogo generale guarda che quadro io poi ve lo dico sempre ed è la cosa che dico con più schietta sincerità mi fido di voi mi fido del vostro gusto mi fido della vostra ordine di scelta della vostra ma sì sensibilità non ve lo devo dire io che questo è un quadro straordinario lo vedete bene lo vedete il carattere dell'artista la vedete l'originalità la vedete la forza dirompente di un artista che oltre ai contenuti di cui ci vuole proporre la visione ha anche un talento incontenibile sa modulare il tratto lo sa variare ha studiato il post cubismo però dentro di lui alberga un'anima quando si parla di espressionismo si parla di questo grazie 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 per le meravigliose conferme grazie il paesaggio mi sembra aver capito eh ma amici ma io ma quando mi dico quando vi dico mi fido di voi lo so ad avere un pubblico il pubblico nostro è un pubblico che interviene da tutta Italia ed è un pubblico competente ed è un pubblico che sa mettere sulla bilancia siete appena state ad artefiera a Bologna avrete chiesto attenzione avrete chiesto no 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 qualche prezzo di qualche opera di qualche autore poi state chiedendo i prezzi dice scusi ma quanto costa un quadro di Aldo Borgonzoni pubblicato sul catalogo generale del 47 del 47 quanto costa un quadro di Aldo Borgonzoni del 55 quanto costa un quadro di Borgonzoni di un metro e sessanta premiato Morgan's Paint con la critica di Giuseppe Ungaretti esposto alla galleria di cosa stiamo parlando e quando vi sentite rispondere quelle certe cifre 5.000 8.000 12.000 voi direte so io cosa comprare so io cosa mi interessa io tu lei signora ciascuno di noi sa che cosa vuole guardare a casa propria e guardare un quadro avere comprato un quadro che ti può mettere in condizione di parlare con i tuoi amici con l'esperto aprire un libro e trovare riferimenti che cosa è stato il neorealismo di cosa scrive Pasolini di cosa si occupavano i poeti a quell'epoca qual è la cultura nuova che nasce neorealismo nel dopoguerra italiano chi la documenta quali sono i protagonisti quali sono le immagini a cui si fa riferimento queste queste signori sono questi gli autori sono quelle le figure sono questi i caratteri sono queste le opere straordinarie che rimangono rimarranno e sono disponibili offerte a chi è interessato a quel certo tratto della storia vedi guarda nel 47 lui sa quando vi dico modulare i toni è tornato da Parigi ha visto le opere del neocubismo però ha dentro di sé alberga nell'anima di Aldo Borgonzoni quel furore di cui si è impregnato quando ha visto le opere degli espressionisti tedeschi di Max Beckman del Diebruck gli artisti del Ponte e allora nello stesso anno dipinge questo quadro c'è una figura di cui è innamorato è vero la propria amata però lui infuoca il tratto e la tavolozza quando va a dipingere le mondine che lavorano scalze nei campi e nelle risaie a rischio della malaria è vero è da lì che nasce la nuova società è da lì che l'Italia dovrà ripartire è lui che si impegna in questo messaggio di cui si fa promotore e lo fa dipingendo con una tagliente convinta forza espressiva è allora che gli storici dell'arte lo possono definire espressionista è allora che Francesco Arcangeli nei primi anni 50 dice no 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 Borgonzoni ci deve essere anche se non è un informale perché Borgonzoni ha un tale carattere lo chiama fuori cioè la migliore critica esclude elide Borgonzoni dal dibattito un po' trito tra da un lato i realisti da un lato gli astrattisti da un lato la figurazione da un lato la non figurazione perché lui dice dentro la pittorica di Borgonzoni c'è tutto e qui lo vedi se tu isoli la figura c'è un quadro che è di una potenza e infatti vedova ne diventa amico hai capito? cioè questo artista se li mangia tutti dai se lo vogliamo dire come talento come potenzialità come espressione di sé delle proprie convinzioni pennelli e tavolozza in mano questo artista non è secondo a nessuno guardate che quella lettera che vi leggevo poco fa scritta da Giorgio Morandi non vorrei qualcuno avesse equivocato non ci sono altri artisti a cui Morandi abbia dichiarato così tanta stima e affetto voi capite? dice non è uno fra i tanti a cui Morandi scriveva con affetto ti penso ti stimo grande artista grazie al sindaco che mi ha permesso di esporre mi spiego non ci sono altri artisti a cui nel 48 Guttuso scrive dicendo mi raccomando manda il cliché della tua opera parentesi possibilmente le mondine cioè capite all'epoca del fronte nuovo delle arti Guttuso e Vedova che sono i due contraltari figurazione astrazione informale scrivono a Borgonzoni scrivono ad Al Borgonzoni non a qualcun altro e queste sono le opere che dimostrano perché e io fido in voi me le chiederete ci chiederete rivederle se poi qualcuno chiederà no volevo farle rivedere quello grande oltre a questo straordinario del 40 perché questo qui c'è la data oltre al colore incendiario che lo rende un quadro pazzesco Mondina 1947 figurarsi è la storia dell'arte italiana con la S maiuscola la S di storia quello del 55 in realtà è un quadro che secondo me potrebbe meritare la collocazione in una qualsivoglia noi qualche quadro importantissimo lo abbiamo già dato ecco me li fai vedere due allora il paesaggio e le mondine il paesaggio e le mondine questi due il paesaggio e le mondine del 55 questo è il paesaggio del 57 prima questo perché è segnalato da qualcuno che sta parlando con il nostro centralino e poi l'altro meraviglia io spero vadano veramente ma non avevo dubbi non avevo dubbi Stefano non avevo dubbi non avevo dubbi grazie grazie è un primo passo è l'inizio di un percorso io spero veramente no dico quando poi qualcuno vedrà la trasmissione on demand in replica e chiederà qualche quadro eh perché lo so che vanno così sono alcuni anni sai che conduciamo le trasmissioni televisive lo so lo so si sparge la voce qualcuno guarda qualcuno chiede e dice eh torna un attimo fammela rivedere lo voglio rivedere quel quadro ma quanto costava e poi vi risponderanno e vi diranno no mi spiace non è più disponibile quello non c'è più no guardi ha già chiamato un collezionista importante no ma guardi a quella cifra si compra qualcos'altro guarda un'altra televendita cerca nelle aste c'è il quadro di Finco Pallino c'è il quadro di quest'altro autore hai sentito il televenditore che ti dice compralo sarà un grande affare sarà un grande investimento oggi costa 12.000 domani varrà cifre in prese ognuno sceglie ognuno guarda al proprio portafoglio alle proprie certezze alle proprie io fido in voi io fido molto nel vostro gusto nel vostro discernimento nel vostro interesse all'arte quella autentica quella che ha costrutto quella dove ci sono la documentazione e la storiografia e la bibliografia e l'antologia critica che sostengono un autore e se fino ad oggi colpa nostra colpa mia dei divulgatori di coloro che organizzano le fiere le mostre pubbliche il dibattito è vero se sulla figura di Aldo Borgonzoni pittore non è stata fatta chiara luce la colpa è mia non di altri ed ecco perché sto conducendo questa trasmissione con entusiasmo ecco perché vi propongo e questo ve lo voglio dire di fare attenzione se per caso ora vi sarà come dire vi si accenderà una certa curiosità riguardo questo artista su cui invece fino a ieri probabilmente eravate distratti non ci pensavate io lo affronto spesso questo argomento in Italia abbiamo così tanta meravigliosa arte abbiamo avuto e abbiamo così tanti artisti importanti è un nostro patrimonio ma è un nostro patrimonio lo sapete è vero se mi seguite lo sapete che io affronto spesso questo argomento non soltanto legato al fatto che siamo l'Italia di Pompei e di Venezia dei musei capitolini e dei musei vaticani delle vestigie architettoniche del passato e delle mirabiglie dei magazzini nascosti dei grandi musei gli uffizi o le gallerie dell'Accademia Venezia no non soltanto noi siamo anche il paese del patrimonio culturale contemporaneo che ci viene dal dopoguerra ai giorni che stiamo vivendo noi abbiamo troppi artisti importanti che lasciamo nel dimenticatoio vi devo parlare di Sergio Romiti oltre che di Aldo Borgonzoni vi devo parlare di Virgilio Guidi oltre che di Giorgio Morandi Giorgio Morandi esaltato è importantissimo nei musei noi stavamo trattando la possibilità di avere un dipinto ad olio di Morandi da poter esporre assieme agli Aldo Borgonzoni ma quel quadro che ci è stato concesso dal proprietario lui ci ha detto ve lo potrei dare però non coincidono le date e come mai dottore perché il quadro è in prestito per una mostra museale in Giappone sai lì i contratti li devi scrivere si parla di opere di valore milionario li devi scrivere due anni prima e allora il quadro quando rientrerà del Giappone sarà a nostra disposizione e prendo un impegno ve lo farò vedere accanto ad un'opera di Aldo Borgonzoni abbiamo così tanti artisti su cui rifare luce signori è il nostro patrimonio moderno contemporaneo è il nostro patrimonio signori miei è per questo che vi vogliamo dare l'opportunità di affacciarvi a questo genere di trasmissioni realismo espressionismo sono tutte definizioni dimmi adesso sono tutti al telefono poi lo so che verso la fine della trasmissione può accadere qualcuno si sovrappurrà a qualcun altro ci ho pensato mi interessa il quadro del 47 vorrei il quadro del 55 vorrei il quadro grande quello del premium borgonzon paint con giuseppe ungaretti a roma che va nelle gallerie a scrivere d'arte e di pittura e parla di quel quadro ma ti rendi conto dai e queste sono le opere che vi vogliamo proporre e queste sono le opere che vorremmo di cui poi voi poteste tenere memoria e dire ma io l'ho riscoperto guardando la trasmissione ad arte netto ma io il quadro di borgonzoni l'ho trovato ah sì la cosa importante che vi volevo dire attenzione a opere che vi dovessero venire proposte apparse sul mercato passate nelle aste che non abbiano i documenti certificati dall'archivio borgonzoni attenzione signori attenzione soltanto questo devono per forza essere viste e documentate dall'archivio centro studi Aldo Borgonzoni di medicina di Bologna oppure essere già sul catalogo generale altrimenti date retta lasciate stare dimmi sì allora voi mi avete fatto un regalo ragazzi voi mi avete fatto un regalo a me è questo qua del 55 allora io sono alcuni anni che conduco le televendite insomma via loro mi hanno dato poco fa un'indicazione che rimarrà un record cioè ci sono 17 persone che hanno chiamato ma non per dire scusa come è successo l'altro giorno quando presentavamo il Boetti ti ricordi? abbiamo fatto vedere un arazzo di Boetti tutti chiamavano per dire scusi quanto costa il prezzo grazie boom e giù la telefonata scusi quanto costa grazie boom giù la telefonata scusi quanto costa boom giù la telefonata 17 persone tra voi hanno chiamato hanno lasciato nome recapito numero telefonico dichiarazione di interesse per il possibile acquisto di questo quadro però di quelle 17 non ce n'è stata una che abbia detto sì lo voglio comprare portamelo a casa e allora signori io io cioè questo è una è un momento adesso mi puoi far rivedere la scheda Marcello adesso mi puoi far rivedere il quadro da vicino adesso mi puoi far entrare in questo quadro ma dai ma dai ma dai ma dai ma io vorrei poter no obbligare mai ma sentire qualcuno che mi dice io intanto chiedo di vederlo a casa mia io intanto chiedo di vederlo alla luce del sole io intanto chiedo di vedere questo e magari guardo anche il grande paesaggio premium organ io chiedo questo e chiedo quello del 47 io magari ne prendo uno e ne valuto un altro ma io un quadro come questo non lo lascio andare non lo lascio andare ad altri sul mercato quello piccolino l'avete preso quello i bambini mascherati lo avete preso quell'altro lo avete preso amici non perdete un'opera come questa di Aldo Borgonzoni ma lo dico per voi è del 55 è un'opera enorme è un'opera più documentata è l'opera su cui è l'opera su cui vedrete saprete perché hanno scritto su tavola no vabbè è semplicemente un errore è una tela è evidente se hai visto anche il retro è ovviamente un olio su tela di Aldo Borgonzoni capolavoro del 55 Gian Paolo la signora Rina non lo so ma chiedetemi di vederlo a casa vostra la luce del sole se io fido in voi avete altri quadri credo di sì di quali autori non so ma posso immaginare questo regge il confronto con qualunque altro non ti piace la cornice chiara la vuoi mettere scura vuoi cambiare collocazione al quadro ma noi capite abbiamo preso quadri da collezioni in tutta Italia ci sono prestiti museali che non vi ho indicato quadri della Biennale quadri pluripremiati un quadro ha il listellino semplice un quadro ha la cornice illuminata e bianca la vuoi scura? vuoi l'oro? vuoi il legno? vuoi esporre il quadro e basta sulla tua parete? ma vedi questo quadro amico mio ora credimi io non è che abbia interessi particolari lo dico per voi cioè qui i quadri sono stati 100 oggi alle spalle del mio amico qui ci sono due morandi un rotella un guttuso che costa adesso non mi ricordo 150.000 euro cioè ci sono le vie e dai cioè quel Vedova costa 138 mi pare il Sironi cioè qui ci sono ma questi quadri oggi ha queste cifre oppure dai insomma guarda qui abbiamo fatto un'esposizione dei quadri che avete richiesto maggiormente vorremmo chiudere qui per non distoglierci adesso da troppi argomenti che la statura di un artista come Aldo Borgonzoni ci porta a considerare a gira la scultura di Murer vai 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 perché l'hanno posizionata questa pesa due quintali se non la posso spostare ogni volta scusatemi cioè eh sì questa è in bronzo è alta come me ma pesa più di me allora no ho anche il quadro ne ho due quadri del 47 non fate confusione ragazzi ho la Mondina Olio su tavola 1947 questo e ho l'altro quadro questo è del 63 periodo Cortina periodo Rimoldi ehm figure della bassa bolognese pubblicato a pagina piena sul catalogo generale ho questo che è quello famoso che sul retro ha la crocefissione ve lo ricordate l'avete visto questo è datato 1947 questo è datato 1947 e questi sono i 4-5 quadri di Aldo Borgonzoni fra i 30 credo almeno che abbiamo presentato quest'oggi che avete segnalato in numero maggiore di persone più appassionati mi sono permesso addirittura di far qualche nome la micarina che credo di conoscere il signor Giampaolo che forse non conosco di persona ma insomma persone amabilissime che io sinceramente ringrazio già anche soltanto perché spendono il loro tempo la domenica seguendo la nostra trasmissione questo per noi è un privilegio amici insomma il mercato e noi ce ne occupiamo quotidianamente a volte ci confonde è vero di questi tempi perché troviamo quadri ovunque troviamo quadri online frequentiamo le fiere e adesso noi iniziamo da prossima settimana appunto a partecipare con gli stand d'esposizione porteremo ovviamente anche le opere di Aldo Borgonzoni allora dimmi non in diretta però non in diretta no 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 nulla ho fatto soltanto io adesso chiedo scusa perché come sempre negli ultimi minuti si intrecciano gli argomenti e si sommano le vostre richieste si tirano le fila di tutto ciò che è accaduto in queste lunghe tre ore di diretta televisiva e permettetemi io mi porto avanti col lavoro oggi tra l'altro devo lasciare la linea e il microfono esattamente alle 13 quindi avrò il countdown tu lo sai Alviso lo sa anche Marcello a me basta sapere quando mancano due minuti per poter stringere i tempi della nostra trasmissione vi darò la disponibilità ancora di qualche opera ma è certo insomma però scusami ma no non ce la posso fare tu lo hai capito io devo andare a chiudere tutte le argomentazioni possibili laggiù salutiamo nuovamente il nostro amico cioè il pescatore il capolavoro di Augusto Müller questa grande straordinaria scultura in bronzo io passo dietro così catturo nuovamente la telecamera avete visto ancora il quadro del 1947 le due mondine olio su tela del 1955 il grande quadro mi posiziono qui al centro così se non ci saranno richieste particolari da parte di qualcuno scial centralino saranno questi i due dipinti con cui licenzierò questa trasmissione ce ne sono tanti altri importanti a disposizione però il paesaggio con cui Borgonzoni ha partecipato al premio Morgan's Paint che all'epoca era un premio d'arte e di pittura importantissimo in tutta Europa venivano da tutta Europa a partecipare e questo è un quadro enorme del 1957 e poi le due mondine olio su tela del 1955 che è un po' il sunto è un po' il distillato di tutto quanto prima di quell'epoca e ne abbiamo visti i quadri degli anni 40 anche quello della Biennale e dopo quel periodo Borgonzoni sempre dipingerà cioè in questo io trovo appunto in succinta sintesi tutti i temi e anche gli spunti pittorici le tavolozze gli accenti le diversità che fanno di Aldo Borgonzoni quel meraviglioso e grande artista che forse qualcuno sta scoprendo e spero moltissimi stiano riscoprendo in questo in questo straordinario dipinto c'è proprio la summa di tutto il suo fare giovanile maturo e dell'ultimo periodo e abbiamo visto tante opere che ricordatelo saranno comunque a vostra disposizione nella trasmissione on demand disponibile sul sito artenetor.it c'è proprio la sezione apposita trasmissioni on demand basterà ritrovare speciale Aldo Borgonzoni domenica 11 febbraio e la potrete riguardare con calma e da questa sera da domani in onda nel circuito delle repliche del nostro programma del nostro palinsesto a proposito del palinsesto io non abbandono questa inquadratura ricordandovi anche che assieme alle opere di Aldo Borgonzoni abbiamo mostrato e reso disponibili una tela di Guttuso una tela di Vedova del 60 tre ceramiche originali di Leoncillo tre opere originali firmate di Giorgio Morandi il capolavoro di Mimmo Rotella del 55 il Guidi degli anni 20 e cos'altro cioè Rosai Romiti di tante opere di tanti fra gli artisti del novecento che sono stati di Aldo Borgonzoni amici frequentatori e hanno avuto come il caso di Morandi reciproca stima l'un dell'altro io con questi e con queste straordinarie opere vi saluto perché se ho due minuti li devo spendere per grazie 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 per la straordinaria conferma sulla mondina del 47 vi attendo su quello le due mondine del 55 vi attendo sul capolavoro il paesaggio del 57 premio Morgan's Paint vi attendo con le prossime presentazioni che riguarderanno Aldo Borgonzoni e tutte le opere ancora disponibili prendete memoria tenete a memoria i due numeri di telefono controllate sul sito Arte Network il palinsesto delle repliche e la possibilità di rivedere questa trasmissione on demand nel chiudere prima di salutare prima di cedere la linea alla regia intanto ringrazio Albise che è stato assistito da Alberto ringrazio molto Tomasina e Anna al centralino grazie a Gabriele Orler che è stato in sostegno un ringraziamento speciale a Stefano Orler che è stato il deus ex machina di questa trasmissione a Marcello Daidone il nostro regista nonché produttore video dell'editing del film documentario su Aldo Borgonzoni un grazie speciale infine al curatore dell'archivio centro studi Aldo Borgonzoni di medicina di Bologna l'architetto Gian Battista Borgonzoni che ringrazio e alla dottoressa Nella Bellotti che del catalogo generale così come dell'archivio Aldo Borgonzoni è curatrice responsabile grazie grazie davvero per il sostegno grazie sincero da parte di Willy Montini e di tutti di Arte Network a voi pubblico meraviglioso appassionati d'arte collezionisti che assieme a noi e assieme ai grandi artisti di cui vi abbiamo parlato avete riportato attenzione la vostra attenzione il vostro seguito sul maestro Aldo Borgonzoni cedo la linea al canale vi lascio in buone mani con Gabriele Orler con Alessandro Borrelli con il palinsesto Artenetto ci vediamo presto su questi schermi noi saremo prossima settimana ad Arte Genova e vi aspettiamo buona domenica da Willy Montini grazie a tutti voi ciao grazie a tutti